ah porca ero sto coso aspetta tutta l'immagine 4 poi vittorio un momento rica devo a questo coso qua io mo tengo quando qua non si vede mica ma chi ti ha detto di ciao pietro ciao valeri momento rica stamattina è successo un casino col telefono cioè fa come gli parla lui cioè ah ma ti sei sistemato stronzo ma com'è 33 no perché prima sono uscito cioè io ho staccato il telefono dalla spi a caricare il telefono ed era al 99 per cento beh beh prima sono uscito e ora c'è sul telefono e stava all'1 per cento come com'è possibile tutto questo tutto questo mo sono cendrele sono cendrele mamma me e mi hanno telefonato da roma e da vedi vabbè adesso mi dice il 35 dai ma eri al 33 boh rica stamattina non pia com'è state amici allora st dio mio ecco si sente no mi sa che non si sente ok sì 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 era la cosa com'è il telefono buggato no ma si era buggato a zero si era buggato tantissimo a zero mamma me io non posso stare perché sono da mia cugina e ci volevo e non ci vedevamo da un po' va bene valeri va bene allora comunque adesso mettiamo mettiamo aspetta no pick no pick no copyright mousse ehi ehi ti devi fare i cazzi tua però però la devo tenere al minimo la musica sennò esplodono le orecchie eh allora oggi dio mio allora se arrivano i bimbi minchia a chiedermi cosa su cosa quale sono gli aggiornamenti su sul collegio 4 e poi li dico eh dio mio che io ci dovevo andare lì mammi sto con le vabbè fanno la live e basta ci ho inviato a mio zio di parteciparci un inception incredibile di partecipare per fare ok il professore perché c'è c'è mio zio che la televisione la conosce aspetta raga eh ok allora oggi però andiamo avanti su dio mio ci allora continuiamo fable però lo facciamo da capo eh cioè continuiamo mamma ma allora faible non lo continuiamo da capo 38 no no riga ma non è possibile due secondi fa era 33 8 secondi fa era tipo 36 mo perché 38 ma si sta E questo qua è un Oppo E l'Hopo A3 Vedi che cazzo 39 Eh l'ho messo a caricare perché Mi diceva 1% Vabbè io lo faccio caricare Allora Aspetta Fatemi tenere la chat dal Ah no c'ho il tablet scarico è vero E niente tengo la chat da telefono 39 mi dice adesso Si è buggata Si è buggata la batteria Ma è sopra qui si è buggata Vedi Ok la feed mi è arrivata anche a me YouTube King Kids Fammi andare sulla like e devo tenere la chat Un momento rica eh non vi sto leggendo che Ok ora ho la chat Sì È scassetto Eh si è scassato Si sta scassendo Perché ti vedi così? Premi il tasto sinistro del mouse Sì Ok e ciro Perché si vede in piccolo? Allora Continua partita No aspetta non continuo partita Eh no Cambio profilo Ma no era aspetta su continua No Come faccio a ricominciarla un'altra? Cambio profilo Eh nuovo profilo Si Ma eh Nuo profilo Ok 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 nome profilo Ci chiamiamo Amico mio Ah predefinito Ha Vai Ok Ok YouTube Eh Wow Sì Ehm Visuale Perché ho fatto sì e si è alzato il volume? Minchia che infarto Allora Visual Teniamo Non so come Eh Io la tengo così Vabbè Facciamo applica E Vai Aspetta un attimo Me l'ha salvato l'altro? Vabbè Chi se ne frega Vai Ti chillo Chi cazzo è ti chillo? Ma la cazzin Aspetta Aspetta Si sente? Oh fucking Aspetta Aspetta Amico mio Devo vedere se si sente la cazzin No Era Vedi Era basso Era E Ti chillo Ma Nel profondo Della Qui viveva un ragazzo Con la sua famiglia Un ragazzo Con un grande sogno Diventare Un eroe Si immaginava Come un nobile cavaliere Oppure come un potente mago Altre volte Sognava di diventare Un guerriero malvagio Ma fra tutti questi sogni Di grandezza Non poteva avere idea Di quale glorioso destino Lo attendesse Ok Si vede? Forza Sveglia Ah siamo a Oakvale Che bello Sognati vero? Sempre con la testa fra le nuvole Proprio come tua madre No si vede piccolino Allora Andrai a cercare tua sorella? No aspetta Rikano Adesso lo aggiungo Rikano Le hai ancora dato il suo regalo di compleanno Non dirmi che te ne sei dimenticato Beh figliolo Stavolta dovrei cavartela da solo Dai Facciamo così Ti darò una moneta d'oro Per ogni buona azione Che farai a Oakvale Dovrebbe bastare Per comprarle un regalo Ma questo Adesso muoviti E tieniti lontano dai guai Non volevo farla così Siamo in live Aspetta Ok Ora in live Ok qui ci spammo Il lincone qui In golla Ora in live Quello spammo anche Matara Lo spammo Gli la do a loro Ok Ma no Ma coglione Ora Momento adesso Adesso lo aggiungo Sto spammando No salta la prova Eh Ciro abbassa il volume E' alto? E' troppo alto? Come è alto Ciro? Che adesso Devo anche Te lo metto così Dimmi mo se va bene Adesso lo devo aggiustare Adesso si dovrebbe aggiustare la grafica Perché di solito Ok adesso si dovrebbe vedere completo Aspetta Vediamo come si vede No è sempre piccolo Eh ma perché? Dai L'ho ricominciato Per Oh fucking dude Aspetta un attimo Eh si Ma mi fai Ah aspetta È da qua Sai perché? Perché non mi ha cambiato La grafica Opzioni video Ah 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 Eh ma scusa Che cazzo cambia? 1200 Aspetta eh La sto alzando eh Allora Ipoteticamente La mia È tipo Aspetta Ciro 1200 Eh così così Applica Sì 60 Dovrebbe essere così Ipoteticamente Eh Ok 12 scopi Sì sì è meglio Infatti si vede anche meglio Eh Aspetta però eh Dimmi Ciro Dimmi Ciro se si vede eh Eh Texture Ma scusa Le texture Dettaglio texture Me le alzi? Eh Dettaglio Reticolo Che cazzo è reti Reticolo Le ombre Chi li si incula La luminosità Va bene così Dettagli Effetti Ma Fammi il dettaglio Sincronizzo Vertichele Io nel caso Ti Confermo eh Eh Veggio Eh audio Abbassiamo L'opic Amici Volume Ah no i dialoghi Li abbasso anche Ok Preciso Ok Quindi torno alla partita Che bello Si Si vede? Verticheble Verticheble I Eh Aspetta eh Aspetta Tiriamo il calcio alla gallina Non so perché quando mi avvicino alla gallina Guarda eh Ah no che fastidio Non devo mettere Dai Ma allora Ti Chillo Eh Si 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 vede bene no? Eh ok Il volume anche no? Perché io con le cuffie da gaming Allora vediamo cosa dice la segna Questa qui Che segna Come si Come parlavo? Ah Ho perso Non ricordo dove l'ho lasciata Non riesco a trovarla Oggi dovevo fare un'adorabile bambola di peluche Con una toppa sulla sua Una toppa sulla sua Quindi la signorina ha perso la La cosa della sua La La bambola di peluche Qua dietro ci dovrebbe essere uno Ecco qua il pervertito No No aspetta giro Sei proprio un briccancè Se guarda Aspetta Cosa? Ero solo Io Non ho nemmeno mai visto questa donna Chi è? No chi è? Ascolta figlio Sì Tieni la bocca chiusa Capito? Mia moglie è a casa con i bambini E io dovrei essere al lavoro Sentilo sentilo Ah dovresti essere a casa al lavoro Ma un uomo Dovrebbe fare quello che gli piace Non pensi? Eh Eh sì però Che il Dargli una Cosa mi dici? Se mantieni questo piccolo segreto Ti darò un pezzo d'oro Ah dammi il pezzo d'oro Allora mo guarda io cosa li faccio Guarda eh Guarda io li dico Sì mantieni Sì Li dico Sì Li dico di sì Bravo ragazzi Tieni Prendi quest'oro Ok mi da Mi da uno di oro Guarda eh Tanto Il mio consiglio è di non diventare mai schiavo di una donna Adesso andiamo Pensa solo a te stesso Dimentica tutti gli altri Allora io ho fatto la cattiva La cattivazione Però adesso glielo vado a dire A sua moglie Hai commesso una cattivazione Quello lo so Tanto chi se ne frega me la recupero Vieni Signorina Via di qui Siamo occupati Ma Via di qui Siamo occupati Dice solo una parola Vai via Vattene Ma come Vai via Ma allora io devo Simulare tre Di oro Però adesso andiamo A sua moglie Questo Guarda eh Guarda bro Mamma me Adesso andiamo da sua moglie E gli diciamo tutti Quindi sua moglie Questa Qua Aspetta No no E questa qui Sì sì E questa Ma dai Sta a dieci metri E là dietro Signorina Adesso glielo dico eh Ma stai calma però Dov'è Con qualche donna Senza te E per forza Voglio lo dire Ah c'è pure i figli Niente C'è ragione Se lo vedi in giro Me lo dici vero Adesso ce lo diciamo Infatti E sì Sai dov'è Bene Vado e lo faccio diventare Cinco Adesso io voglio inseguire Questa qua per vedere Cosa gli dice Grazie per avermelo detto Figurati E ho commesso la buona azione Hai visto Vai vai Dove Va Vai vai Guarda guarda Aspetta corri corri Aspetta Sì Dopo Voglio vedere cosa Che cosa gli dice Aspetta che non mi ricordo Vai vai Sei uno sparto magiale Dovrei ridurre i pazzettini Non insultare oltre la mia intelligenza Ma chi cazzo Ma mia madre aveva ragione su di te Non stavamo facendo niente Lo giù Beh Se credi che mi starò qui a cucinare E pulire per te Mentre tu sei cittadino Dai c'aveva anche un bello Oh io Sai che io Stavo attendo Sì Ma chi è Una di quelle Prostitute del villaggio Ma che cazzo Magari più giovane di me Vero Sei uno sporco maiale Ma guarda che Adesso si ripetano Ti ringrazio per l'informazione Ragazzo Figurati Sudicio maiale Ma Ma come A me Ma come sudicio Ma Che cazzo Cosa succede nella chat Ma Sì Ma come sudicio a me Non insultare Ma poi c'è anche un bel Cug Ti ringrazio per l'informazione Ragazzo Su diciamo A questo che mi dice Ragazza di maiale Pensavo che avessimo un accordo Ragazza di maiale Ragazza di maiale Pensavo che avessimo un accordo E chi ti incula Vabbè Ma si ripetono Ah qua dietro Però Un po' di frasi in più Hai visto che casino Che ho fatto Chi Ho fatto Chi è Però Il soldo Non me la Ne ho solo uno Allora che dice questa Che non mi ricordo Non si vedono mai Degli eroi da queste parti Vero Eh no Allora andiamo Innanzitutto Questo qua che dice Domattina dovrò alzarmi presto Per andare a Bowers A Bowers Fino a lì È lontano Bowers Eh cosa è Shadow Tu dici maiale A tua madre Eh Ma voglio Oggetti davvero Allora Questo che dice Salve ragazzi A lei Sono un mercante E mi piace andare in giro Per il mondo A comprare e vendere oggetti Spezia gente raffinata come te Aspetta Ma dove guarda Io sono di là Io sono di là Sta guardando dall'altra parte Qua C'ha gli occhi Dall'altra parte Che succede nella chat Che baffi Ma guarda Sta guardando dall'altra parte Io sono giù Dove sta guardando Una ragazzina Mi ha detto che hai una sorella Sì C'ho la sorella Il suo compleanno Ah suo compleanno Hai visto che baffoni E pare che tu non le abbia ancora preso un regalo Eh no Non sono arrivato a tretene Guarda che si sono baggati quelli dietro Ho proprio qui una bella scatola di dolce Sicuramente tua sorella li gradirà Ti costeranno solo tre pezzi d'oro Solo? Tre pezzi d'oro Che suona tanto per un ragazzino E non ce l'ho Magari dopo Ma sbrigati Prima che me li mangi Ma allora li vuoi? Ricorda Costano solo tre pezzi Si me l'hai detto Ma è strabicotese Ehi Andiamo dalla guardia A chiedere se mi presta qualche Ehi Ti ho preso piccola canaglia Ma Come piccola canaglia? Ho sentito dire Che non ti sei comportato molto bene Ma come? Complice in un illecito Tra un uomo e una donna E chi l'ha Ma come chi gliel'ha detto a questo? Ma dai Ma poi non c'hai gli occhi Scusami Non ha C'ha la tendina Sugli occhi Chi te la de Questo tipo di comportamento E' inaccettabile Ma dai C'ho uno di Un'azione negativa E una Se solo avessi più anni Verresti arrestato E finiresti in prigione Mio giovane amico In prigione per un'azione Vale davvero la pena Di comportarsi così? Ok E qua mi stai dicendo Il gioco di Fare buone azioni Per ora farò finta di niente Come? Ma pensa a ciò che ti ho detto Cosa mi hai detto? Ok Questa qua si persa E' sempre quella di prima Prego Trova la mia piccola Orsi Adesso Te la provo Allora qua io mi devo Ma dai Ma è Fastidio Allora La rossa La rossa si Allora qua devo fare Guarda eh Faccio Ehi Ma è Sei rotto? No amici Ma che paura Ma che cazzo di paura? Sei arrivato di corsa All'improvviso? Ma Sì sì mi faccio Li cazzi mia Dammi il pezzo d'oro No perché Non devo fare cinque Guarda eh Allora qua adesso Facciamo i bravi Eh? Ma te la stai cagando Ok Questo qua si sta cagando sotto Rimani in mezzo a queste due pile E non muoverti Ok Ok Giù Quindi Vai a cagare Non tornerò Metterò una buona parola Per questa cosa Non ci vorrà molto Ok Buona cagata a lei Ok Questo qua adesso Mi deve istigare Mio cugino ha detto Che i barili di quel magazzino Contengono alcuni oggetti interessanti Allora Allora Questo qua è un È un bimbo È un bimbo minchia Vedi È un Dai c'hai la voce da quarantenne Presto Mentre è via Apri i suoi barili Non sembra da Dai c'hai due C'hai due anni Vabbè io ne avrò cinque Apri i barili Ecco adesso qua Mi stai sticando Per far Meno che tu abbia troppa paura O che tu sia una ragazzetta Senza coraggio Vedi bimbo minchia Bimbo cappella Forza Andiamo a divertirci Quindi io dovrei aprire Queste casse qua Per fare la cattivazione Pensi di rimanertene lì Come uno stoccafisso Eh sì Dove stai guardando Ma perché qua la gente È così noioso Ma dove guardi Preferiresti fare a pezzi le cose Allora amico mio Adesso ti Ti arriva un gazzotto Andiamo C'è ancora tempo Prima che ritorni Ma chi ti incula Fammi fare l'azione Bella Non sei affatto divertente Meno male Ma c'ha la panza Questo bimbo qui Ammazza un pappone Vedi Eh lo sposto Bene Fai pure la tua buona azione Eh sì Ma Perché guardi Ma magari Eh sì Eh ritorno Ha cagato Ha cagato Sì ragazzi ragazzo Mi hai fatto un gran favore Spero che mi dal Riferirò a tuo padre Che sei stato davvero Un bravo papiano Io dico Io dico al paese Che non ti sei lavato le mani Perché Qua non vedo Gabi C'è il gabinetto Ti piace la panza Hai commesso una seconda Ma me lo dai Ah ho più due Amico mio Adesso ti arriva un cazzotto in testa Ma come Cosa significa Come cosa significa Ma vabbè Eh Lasciamo che Lo volevo Eh yey Eh sì Non l'ho ancora trovata Signorina Si facci un attimo Dammi tempo Perché non mi ricordo una chip Allora Andiamo di Qua Ah Aspè aspè Eh yey Che vuoi Ho sentito Delle tue malefatte Pressoché regolari Ci diamo una calmata Dai ho tirato Un cazzotto Quello Cosa significa Aspetta Le tue Malufatte Ci diamo una calmata Comportamento violento Ai danni Di un abitante Del villaggio Senza il consenso Della guardia Complice In un illecito Tra un uomo E una donna E vabbè Quindi sono piccolo E posso Su Ma stai calmo Ne ho fatte due E quelle azioni buone Non me le Non me le conti Amico mio Perché mi guarda La differenza di questa guardia Ragazzo Eh Però mi Le buone azioni Non me le conti Guarda solo quelle brutte Coglione E quelle buone Aspetta Io potevo Sì dritto Amico mio Quel ragazzo Non conosce la differenza Tar bene Eh vabbè Quello il ragazzo Ma stai calmo Stai Allora andiamo Qui da mio pa Ipoteticamente Il mio pa Ah no aspetta Adesso mi fa il cazziatone Eh sì Aspetta Prima di andare Da mio padre Quello lì Sarebbe mio padre Nel game Eh La madò E se lo bruciavi Eh Ho capito Meno male Mi fa Ma scusa Io ho commesso Anche due buone azioni Quelle lì Non me le No eh Niente Solo le cazzo Allora quindi Aspetta Non mi ricordo Dove dovevo Aspetta 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 Allora là C'è mia sorella Che se vado lì Arrivo lì Bandito E quindi Col ca Che ci vado Devo andare A dare i cazzotti A un tizio Aspetta Eh Però mi sa Che non me lo Non mi ricordo Neanche dove Stava quello lì Aspetta Eccolo qua Eccolo qua Eccolo qua L'ho trovata Allora Aspetta Eh Che Devo Aiutatemi Vi prego Se ne va in giro Per la città Prendersela Con tutti quelli Più piccoli Di lui Ma tu sembri forte Scommetto che potresti Spaventarlo una volta Per tutte Sono fortissimo Sì Il rosso Devo sconfiggere Con spazio Ok quindi Amigo mio Cosa vuoi Mi sto semplicemente Occupando di questo Marmocchio Eh Però se un bullo Bimbo Minchia Mi irritava Vederlo giocare Con sua sorella Questo almeno Almeno mi guarda in faccia Questo Adesso non vuole darmelo Solo perché ho detto Che gli avrei staccato Ah ecco C'è la luce L'ho avvisato Se non fa quello che gli dico Ti renderò la vita un inferno Allora adesso Lo meniamo Eh Bombici Ehi va Cosa stai facendo Però lui non Non reagisce Tre Tre Mi dispiace Lo lascerò in pace Ma per favore Non picchiarmi più Non picchiarmi più E se ne va Addio Ma Eh Perché Non hai un dente È un dente più lungo Ti affido Rosi Con te sarà il sicuro Sì Ok Quindi Ho sacchiotto Quindi Hai compiuto Adesso vado dal Eh Grazie Lo hai fermato in tempo Grazie ancora Eh questo qua è umile Quindi Adesso vado dalla guardia Se non mi dice Che ho commesso La cosa Lo piglio a pugno A lui A sto giro Amico mio L'hai vista la buona azione Stai mettendo a dura prova La pazienza di questa guardia Ragazzi Ah Hai visto Non me la Mamma Starda Eh Allora Andiamo Devo andare da mio padre Però dai Ne ho fatte Tre E due negative Perché non volevo Piccolo fotte Eh Non me la riconosce Le tre Eh Coglio Poi c'ho C'ho una hit C'ho pochissima vita Allora Padre Perché mi Ah Almeno mio padre L'ha visto le azioni Però Ma perché si Con questi quadraturi Scusami un attimo Perché si vede La basetta gigante Di questo qua Ma se credi Che chiuda un occhio Sul tuo misfatto Ti sbagli di grosso Almeno Ascolta Cerca di stare alla larga Dai guai Fallo per me Eh vabbè Credo tu ne abbia abbastanza Hai parlato con il mercante Eh sì Ma non ho Me l'ha dati solo Ah me l'ha dati quattro Quindi ho quattro Allora amici Però è triste Eh sì È perché Comunque questo qua Era Era È ambientato Nell'epoca Eh Vai vai Non posso andare Nemmeno nei negozi No Non posso Vedi È tutto chiuso Ma perché Scusi è tutto chiuso Potevano aprire Scorte disponibili Oh Scorte disponibili Ah Signorina È quella di prima Ho provato a comprare Della frutta Da quel mercante viaggiatore Ma ha solo roba Che fa ingrassare Ma che Che Voce ha questa qui È un tipo Imprevedibile Vero Sì Allora L'hai vista Le buonazioni Oggi delinquenza minorile Domani la prigione di barche Quando ti Vada le mie parole È qualcosa di strano In quel ragazzo Allora Non Perché la gente qua Mi Ma perché si deve Giudicare Se questo qua Lo facciamo Boh Andiamo Dove Ah dal mercante Dopo averti aiutato Nei tuoi lavori Ti ruberà le mele Le Apple Vabbè E io vado dal mercante E piglio i bis I cosi Il regalo Per la scuola Non ho ancora venduto I dodgi Ah Scorte Scorte Adesso mi guarda Trin Hai visto Cosa C'era una Prima era strabico Eh Der Comunque Ti supporto Come creatore Eh Tequillo Il supporto creatore Tequillo Si chiama Perché Non riesco a cambiarlo Per solo tre pezzi D'oro Eh E l'abbiamo capito Io te ne do tre Perché ne ho quattro Dammi il resto Amico mio Si Ma com'è che lo sanno tutti qua Dove siamo in Puglia Che sanno già tutto Ok Mi ha dato cioccolatini Ok Allora Aspetta Però io voglio stare A Oakvale Non voglio andare Da quella Cioè Vorrei andare Da Quella lì Però Quando vado lì C'è la cazzina brutta E questa gente qua Non vi spoilerò nulla Dai però Devo andarci per forza Non c'è una No No Come Oggi delinquenza minorile Domani la prigione di Bargate Vada alle mie parole Bargate La prigione di Bargate Non so dove sia Allora Laviamoci i pianielli Questo qua c'ha i pianielli Vedi C'ha i pianielli Che pianielli c'ha Ah c'ha come i miei Vedi I sandali Tipo dei sandali E' piccolo Piccolo E' un paesino Capito Però Oakvale Ecco Io voglio stare a Oakvale Non si può Adesso da qua Qua arrivano Le genti belle Si può O no Eh vedi Non mi fa andare E niente La storia Devo andare Da questa bar dracca Di mia sorella Vedi Non voglio Poi parte la cazzin Devo per forza Wee Melin Devo andare Devo andare per forza Ma non voglio andare Io Aspettate La storia è questa Basta Vabbè Andiamo Va Vai vai Eccola E' partita la cazzin Salve a lei Spero che tu non ti sia dimenticato che giorno è oggi Che giorno è oggi Oggi è sabato 7 Mi dispiace Mi dispiace di averti svegliato la notte scorsa Ho avuto un altro di quegli incubi Sfondalo E ma adesso Non voglio Voglio restare Allora adesso poi andiamo subito a Oakvale Non preoccuparti Sto ancora aspettando il mio regalo Devo ritorno Perché è lontano dalla gilda qua Gli diamo E se non glielo do Aspetta Cosa succede Io glielo do Cioè il Mi avresti portato dei cioccolatini I cioccolatini Come lo so Come nel mio sogno Ah ha sognato Avanti andiamo a casa Mamma sarà di ritorno a momenti per la mia festa Ah E però mi sa che no No Non voglio uscire amici E no che non voglio uscire Ehm C'è un'altra strada Aspetta Aspetta Se io Cosa Ok E amici Quando esco da la Aspetta eh Sapevo che mi avresti portato dei Avanti andiamo a casa E ma non Mamma sarà di ritorno Ma Dai Che lo sai E niente amici Dobbiamo lasciare Oakvale Che palle Fastidio I questi qua Vai vai Eh la storia è così Passo Ecco E' finito Eh C'è qualcosa che non va Cos'è che non va Banditi Vedi Boh questo è morto Freccia Ma non l'ha preso Non gli ha affatto Sono qui Devi nasconderti E noi ci nascondiamo Avete visto perché non volevo Ha sognato la cioccolata Sì la Martina Ha sognato la Io lo so Io non volevo E' uno E' uno E' uno Ma dai Ma che è stata ferma quella Come fanno a non vedere A me Il male Il male Era giunto a Oakvale Il male Banditi con torce e spade Si aggiravano pronti a uccidere e bruciare Vedi Vedi Non volevo passare Perché è Oakvale Gli abitanti del villaggio imploravano pietà Ben presto i cadaveri riempirono le strade E' alto il volume Ciro I razziatori raggiunsero l'ultima casa Dimora di un ragazzino e della sua famiglia Per loro Avevano compiuto quel massacro Ma dai Però erano Erano tipo tre banditi Il padre si battè per difendere Ma non era un guerriero Ma non era un guerriero E cadde ferito a morte Ma copiato Vabbè Non era un guerriero I banditi misero a soquadro la casa Senza trovare il ragazzino Che Nonostante le torture e le minacce La madre e la sorella Mantennero il segreto E vennero rapiti Ah la madre non è bella Ah ti unirio Dai boschi circostanti Il ragazzino vide la sua famiglia distrutta E tutta la sua vita ridotta in fumo Vedi Era solo Mo Aspetta Prima mi mangio la ciotola La milk Ehm Aspetta Ok meno male che Momento riga eh Prima mi devo Au Briga pitona Girate l'orecchia Qua è bloccato Guarda Oakvale Amica No però Che basta Bruciati i vivi Ma Guarda se Aspetta Li vado a rompere la culo a questi Aspetta eh Che hanno bruciati l'orecchia Che non buco la gente Eh Attimo Però Chissà bene perché Giudicavano questi Eh No eh Dov'è 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 Oh nato dal fuoco mazzo il fulmine di dell'ero ma perché guarda ma scusa prima arrivare prima no eh dammi la mano chitticolo e li dà la mano ma dove guarda però ok ha fatto il teletrasporto non ha la gira dall'altra parte del automatico non hai salvato comunque il gioco non mangiato ha vomitato ragazzo risparmiati non devi combattere contro di me forse non te ne sei accorto ma ti ho appena salvato la vita non c'è più niente per te e se non te ne vai subito farai una brutta fine questo qua arrivare prima no mi chiamo dedano sono il capo della gilda degli elori ne avrai sentito parlare non troverai posto più sicuro in tutta albion né una dimora migliore se cerchi vendetta ti servirà l'addestramento che solo noi possiamo offrirti non me l'avevi detto ti presenterò al maestro della gilda sarà la tua guida d'ora in avanti non l'avevi mai detto eh e quindi qua siamo alla g ecco te chillo ho un nuovo studente per te a lei mettilo nel dormitorio di sopra mettilo con una ragazza con una ragazza con i miei amici con chi bene ti seguo però non sto fare la cazzina ha dovuto fare come non lo sta seguendo però eh dividerai questa stanza con sussurro sono dei nostri allievi più promettenti attenzione sussurro al momento sta giocando nel bosco ma la incontrerai domattina adesso però faresti meglio a riposare domani inizia l'addestramento sussurro nel bosco vai nel bosco mo piange guarda eh ecco hai visto ah ok ok quindi è mattina ma che allora sussurro ti facevo più alto subito dritto sai che parli nel sonno devi aver fatto un incubo spaventoso è comune nella prima settimana qualcuno non resiste proprio nemmeno tu se non ti dai una mossa il maestro della gilda ci aspetta nella sala della mappa non vorrai far tardi il primo giorno no seguimi ma se strabiliante vai vai seguimi ma le cazzine come il maestro della gilda si sarà stancato di aspettarti a forse nel campo di addestramento in altra parte del fiume andiamo 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 service and ok quindi sussurro perché per di tempo a parlare con me torna sul ring del combattimento ma stai calma stai adesso andiamo sul ring cretina eh vai vai andiamo da quel cretino del della gilda del maestro ah che bello qua eh però io voglio ritornare a oakvale dove dove voglio ritornare a oakvale caga eh dai eh ma adesso ci fa provare amico mio vedo che ti sei schiodato dal letto alla fine eh è bisogno vieni qui ragazzo ma avanti vediamo cosa sai fare però ti lei tutto bene molto bene ragazzo è ora di valutare il tuo talento sali sul ring sul dov'è il ring ah dimmi dove lo dove lo vedi il ring non è un ring si ha spazio ok dai ok gli ha dato gli altri lo stai colpendo con molta forza vabbè eh eh ecco prova con questo cosa mi da il bastone ah ah si perché perché con il bastone faccio faccio più danno eh prova con questo quindi come lo tiro fuori già no 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 non mi ricordo amici tagli una bella legnata col tuo bastone ah con la q ok dagli una bella legnata con il bastone ok ok è morto ok è morto il manichino ah ok quando sconfiggi un nemico come questo manichino a terra rimane una sfera d'esperienza ogni sfera contiene tutta la conoscenza e l'abbiamo capito debbi raccogliere queste speri o non farei progressi tra un combattimento e l'altro ora raccoglila si raccogliamolo ben fatto ragazzo domani noi allarme alla gilda sembra che ci sia qualcosa che si aggira nel bosco ok questa è l'occasione per testare il tuo spirito lo spirito ti aspetterò all'entrata della foresta della gilda dove ti occupi del problema ok quindi quando avrai finito parleremo del tuo addestramento ma che palle le prime missioni delle palle ok ok ma scusami un attimo se io vado su salva no eh vedi sono vuoti vabbè noi salviamo eh sembra quell'altro me l'ha salvato porca miseria salvataggio in corso non spegnere la console connessore quindi andiamo a fare la mission seconda dove che fa vabbè andiamo eh di qua apri di lato andiamo andiamo mi prendi la q ma devi devi eh ok foresta della gilda tipo qua ci sono gli insetti se non mi ricordo bene si infatti 10 devo acciderne vai vai eh adesso qua porca voglio ritornare a oakvale no eh eh insetti schifoschi ah li scelto lì eh prendi la co e spera ah se ne va se ne va eh perché scompare quella lì dopo un po' nonlo ok ah eh ma gli stai po qua con il tuo vecchio ah 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 bastido sono il peggio delle due hai vist0 scompaiono queste qua se non le pio ma eee eee ma che suono fanno queste qui dai che la cosa se se ne va a facco se ne sta andando la mia esperienza quanti ne rimane uno vai ok ma che mai è morto perché c'è la cosa bel lavoro amico che gli scarafaggi sono morti tutti puoi uscire dalla foresta ora è una bimba che urla buona stupida cosa inutile come mi ha parlato il maestro della gilda scusami cosa c'ha un auricolare entro l'orecchio vai ritorniamo dal maestro comunque esci oggi ciro che fa esci ottimo ecco quegli scarafaggi sono davvero insopportabili ecco credo che ti sia guadagnato qualche spicciolo le spicciolo quanti mi danno se ti interessano monete extra sono certo che i serbi gradirebbero un po d'aiuto chi potete entrare in tarda serata quando siete pronti per dormire cercatemi ecco in tarda serata si vuoi smetterla di comportarti ma come smetterla di comportarti si vieni pure da me quando ti sembri stanco dopo aver ucciso quegli scarafaggi il tuo addestramento sta per cominciare ma prima ti aspettano duri anni duri anni si la vita del ragazzo ora era la gilda il ricordo delle fiamme di oakvale dilaniava ancora la sua mente ma ben presto l'addestramento divenne il suo unico pensiero ed egli diventò sempre più forte ed agile col passare degli anni passava i giorni facendo esercizi estenuanti la notte sui libri in biblioteca adesso che tipo puoi smetterli di fare il bimbo divenne quindi un apprendista della gilda proprio come predetto bene giro cominciava il vero l'attestramento giù dal letto pigrone dovevamo incontrarci con il maestro della gilda sull'altra sponda del fiume ci aspettava un'ora fa meglio apprezzarsi diamoci una mossa e dorme comunque acqua e quindi adesso siamo diventati grandi e ma perché si ma perché mi buffera va sempre che so perché mi mi buffera ti ti sta bufferando ciro come ti buffera allora quando vedevo meno male che almeno qua la mappa si capisce vabbè conosco il gioco e forse che la capi lo capisco volevo vedere i capelli però quando corre si gira a non è qua e dove si è vero dobbiamo fare ancora gli esercizi delle palle vomita all'arco è rimasto c'è in tutti un bastone 71 di oro e appoggia fare la f2 ecco lei ti fa il meteorismo e ride signorina a lei non mi è questo sono quasi più basso di te a cambiato andiamo dalla maestro a farci imparare l'arco c'è almeno penso che sia l'arco sto giro sei di nuovo in ritardo ti buffera ma come fa a bafferarti ma allora dove parla butta pure quel vecchio bastone oggi inizieremo l'addestramento con le armi vere cerca di abituarti al peso di questa strada e vediamo se riesce a colpire su sarà la tua connessione ciro che mi dà la spada lunga di ferro rieccolo si sta ancora bafferandoci coraggio allora vediamo cosa sai fare contadino ma contadino a chi come ha fatto a passare come ha fatto a passare così amica mia ora stammi a sentire ciò che sto per insegnarti potrebbe salvarti la vita dal cielo prende in grado è molto pericolosa e devi imparare a contrastare gli attacchi dei tuoi nemici se vuoi vivere a lui contanti sussurro cercherà sempre di colpirti ma tu potrai difenderti con la spada adesso video tutti i colpi possono essere parati ma dovresti poter reagire alle mosse di sussurro e si vai vai ma mi volevo proteggere come mi proteggo non lasciar passare i suoi attacchi ragazzo a quello c'è ma dillo il centrale come è fatto ben fatto ora vediamo se sei capace di venire arriva uno grosso tuono mi sembra salve tuono tuono sei qui per verificare i progressi di tua sorella tua sorella puoi ben dirlo sussurro mi ha detto che l'avete fatta allenare con un ragazzotto di campagna vedalo vede grande talento in quel ragazzo abbastanza da tenere testa la mia sussurro beh allora andiamo a vedere sussurro e quel ragazzo si allenano negli attacchi in mischia bene vediamo chi di voi ha preso di più durante l'addestramento questo sarà un duello senza esclusione di colpi come la vostra prova finale quindi preparatevi ok così mi difendo ma dai ma dai mi ha dato una hit ottimo bene sussurro devi esercitarti di più è un peccato che tu non mi abbia visto nell'arena avresti imparato un paio di cosette continua ad allenarti se vorrai avventurarti là da solo se non ci avessi fermato lo avrei sconfitto come da solo abbiamo già pochi eroi ma non è necessario che vi facciate a pezzi l'un l'altro in allenamento ha detto alla ragazza da solo vieni da me per passare la prossima fase dell'addestramento si sarò al poli bello al poli bello al tuo combattimento in mischia molto bene ragazzo continua a combattere così e andrai lontano dedalo bene ed è quindi vuoi riprendere l'addestramento si raggiungimi al poligono di tiro con l'arco e adesso andiamo andiamo dai vecchio sei lento è qui si è ipoteticamente qui è dedalo sei pronto per l'addestramento si si continuiamo l'addestramento con l'arco vai sono una pippo con l'arco vediamo se riesci a colpire tre bersagli immobili vabbè queste io sforzati un po più tenderai la corda del tuo arco più danni causerai con un solo colpo ma dai ma sicura devi essere all'interno del cielo ma veramente ok quindi con la epi o l'arco giusto si ora mira al bersagli fammi avvicinare prima così zoom ok zoom ora mira al bersagli ma dai l'ho preso c'è lo prova a tendere di più la corda otterrai un tiro più forte dovevo fare il bel tiro ora mira al bersagli adesso non mi diretti ottimo hai centrato tutti i bersagli che scoperti si è una scoperta purtroppo i nemici non stanno fermi e grazie come te la capi ma dai bersagli in movimento davvero stai un minuto per fare più punti possibile ma bersaglio anteriore vale un punto quello nel mezzo 3 e quello in fondo 9 ma nel mezzo fa male non dimenticare la vostra prenderai la corda del tuo arco più danni causerai con un solo colpo più danni più punti ma fa attenzione anche a potenza velocità ciao andrea e precisione e meno mele vediamo di cosa sei capace e dai dai vai posso schipparla sta prova hanno dopo per forza falla vedi che sfiga de me quindi dopo forza falla vedi medici prima facciamo lo zoom allora vediamo se riesco a colpire chi t'ha detto di disi zoomare c tua adesso lascio eh vai fatto un liscio ve l'avevo detto ah aspetta ah non volevo è niente è finita aspetta dai mi zoommi please eh grazie a lei volevo prendere quello dietro ma guarda che io mi mi scordo che dai bel corpo bel corpo ma volevo prendere quello dietro volevo dai ci abbiamo 30 secco eh vedi sono un buona pippo con l'arco vai ma non ci credono ma perché io può io può ma io non ci credo non ma l'ho preso a stuggire visto dcv visto venga torna lì ma io sto focussato così c'è chi è tre secondi è finita è andata non male come scelta di colpi specie per il tuo primo tentativo e me mira beh bene vuoi riprendono ma non riproviamo ma non riproviamo ma chi t'ha detto ma amico mio continuiamo la destra non volevo non volevo non non voler cominciare vediamo se riesce a colpire tre bersagli immobili sforzati un po' un'altra cosa se non la corda del tuo arco più danni causerai con un solo colpo io t'ho detto assicurati di essere all'interno del cerchio a di fai ma chi e t'ho detto di non che non volevo rifarlo allora aspetta se lo posso dire prima cosa devi impugnare l'arco rifamolo fastidio ora mira al bersaglio grazie a ca' da cielo prova a tendere di più la corda otterrai un tiro più forte ma no ottimo hai centrato tutti i bersagli purtroppo i nemici non stanno fermi vediamo però non volevo fare il movimento hai un minuto per fare più punti possibile possibile il bersaglio anteriore vale un punto quello nel mezzo 3 e quello in fondo 9 punti non dimenticare più tenderai la corda del tuo arco e ce l'ha già tenuto ma perché sti cos'è qua più danni più punti ma fa attenzione anche a potenza velocità di fuoco e precisione ecco vediamo di cosa sei capace si amico mio però non volevo rifarlo rifamolo a sto giro cerchiamo almeno di beccare l'ultimo ma allora questo è il primo ma perché non lo becchi non lo becca è difficile l'ultimo è veloce è veloce ma guarda che sfido però l'ho preso ma dai tanto cielo prova a tendere di più la corda otterrai un tiro più forte ma lo so bel colpo bel colpo volevo piare il terzo non quello che si è messo in mezzo si si mette in mezzo ora è troppo in anticipato anticipone devi metterci più forza amico ma fatteli i cazzi tu amico amico ma dai l'aveva preso ma dovresti curare di più la potenza allora adesso gli schiaccio era il tasto sinistro giusto si e poi apprenderemo l'arte della volontà bella la volontà del furbo quando sei pronto per continuare l'addestramento parla con me sarò sull'isola vicino alla cascata dove e ma è generico a di là di là ma è no e se c'è nuvoloso amico mio ci sono le nuvole sono volato c'è qualche apprendista che vuole esercitarsi nei combattimenti in mischia ah io io è l'ultimo giorno è l'ultimo giorno si va bene tu e su ho un premio speciale dammi il premio ma chi ti ha detto di come ha fatto chissà come ho fatto ho cliccato il tasto dai signorina d'accordo ora puoi fermarti puoi fermarti ottimo la prova con quella spada ti fa guadagnare una B la B ho una bella spada per te se riuscirai a prendere una A più è l'ultimo giorno eh vuoi essere voluto si va bene tu e sussurro potete ho un premio speciale per te se riuscirai eh A A più devo fare quindi non mi devo fare colpire tipo dai non mi ha fatto a passare eh vabbè d'accordo ora puoi fermarti me la dai l'A più straordinario sussurro sarebbe senza parole A più quel giudizio significa che posso consegnarti una nuova arma ah grazie a lei katana ti fa... fa più male quella lì oh oh che l'hai davvero fatta vedere a sussurro hai visto? così mi ho fatto vedere ah gliel'ha fatto vederli la allora andiamo vai vai rimane da imparare solo la volontà eh è tempo di imparare i poteri della volontà cominceremo colpendo questi fantocci con il fulmino colpendolo va bene vediamo di cosa sei capace come si fa? col 3? aspetta perchè non mi ricordo 7 ah me l'ha messo sul 7 aspetta come li cambio già i comandi? no e come li cambio? scusaci come... dai però non lo voglio sul 7 eh però non lo voglio lì vediamo quanti riesci a colpirne in mezzo minuto in mezzo minuto attacca solo i fantocci rivolti verso il centro dell'isola eh ma ho poco non alterai punti se li colpisci alla schiena e sprecherai il mana a tua disposizione ah l'abbiamo capito l'uso dei poteri della volontà fa diminuire il tuo mana una volta finito dovrai aspettare che si rigenere ok 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 molto bene però vedi si scarica al mana si scarica al mana vedi è una cosa di movimento incredibile bene ma perché è una cosa di movimento vedi secondi ma eh hai impiegato ottimamente la magia bravo ammazzola fotte fotte vuoi continuare vuoi ripetere no 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 molto bene ragazzo hai imparato le tre discipline degli eroi ammazzolo ora possiamo passare alla tua ultima prova se sei pronto oppure puoi esplorare la gilda per un po' sì credo che sussurro sia per entrare nella foresta della gilda se vuoi andare con lei la signorina è da sola nella gilda continua gioca gioca continua aspetta continua gioca molto bene quando sarei pronto a continuare mi troverai sì il ragazzo padroneggiava le tecniche ma aveva ancora molto da imparare per anni la gilda fu la sua famiglia la sua squadra e la sua vita ma col passare del tempo i suoi pensieri erano sempre rivolti al mondo esterno la vita che aveva perso la famiglia che gli era stata strappata giunse l'ultimo giorno quello delle prove il successo avrebbe segnato la conclusione dell'addestramento avrebbe ricevuto il sigillo della gilda e da allora sarebbe stato artefice del suo destino il sigillo sarebbe diventato un eroe prima del diploma c'è un'ultima prova che devi portare a termine ma è che prima della prova vai nella foresta della gilda e raggiungi il tronco in cima alla collina la prenderai la tua ultima prova prima della ma quante volte ho detto prova in 5 secondi che cosa stai combinando là fuori ragazzo mamma non mi urlare che son vicino guarda sentilo sentilo che cosa stai combinando là fuori ragazzo io ho urlato a 2 metri anzi da 10 centimetri che vuole metri vado vado ok eh aspe... no 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 andiamo andiamo che cosa stai combinando lì fuori mettendo in pratica tutto ciò che hai imparato e chi ti incula muovi cominceremo con la spada eh colpiscimi se ci riesci ah la giappo ok quindi eh ma questo cheat oh appettino l'arco oh l'hai sentito questo eh molto bene ci tua adesso colpiscimi con il tuo arco non avvicinarti troppo non avvicinarti troppo ah quindi l'arco la è ok dove tu sei attaccami eh devo attaccarlo eh vabbè quindi non me lo dice nella mappa bene sei veloce sei veloce cosa le para ma perché eh devi colpirlo eh bravo che sa c'è il qq? fattici un po' di raro dai l'ultimo eccellente mo col fulmine infine scaglia un fulmine contro di me beh però lo volevo mettere su un altro numero non qui l'ho visto la volevo mettere sul 3 come ho sempre fatto ti sei buggato stronzo? ti sei buggato basta così beh è davvero non male per un novellino i combattimenti veri saranno un po' più impegnativi vedrai comunque hai superato la prova finale meno male sei pronto a ricevere il sigillo dal maestro della gilda ah il sigillo suono orribile eh ah ok quindi non posso logicamente ancora teletrasportarmi nelle nelle varie mappe la mappa dell intanto qua c'è una pepola che gira la pepola e l'uccellino cazzin per noi ma perché ho il giorno tanto atteso ragazzo ma si è acceso dai se è arrivato da noi la fiducia di Daedaloy ma l'hai visto si è accesa ora una luce la cerimonia di premiazione si terrà nella sala del destino la sala più antica di tutta la gilda gli apprendisti possono avvicinarsi c'è i led quello lì nella faccia per molti anni avete lavorato duramente per guadagnarvi il titolo di eroi eroi oggi termina il vostro apprendistato potrete girare il mondo e compiere grandi gesta gesta che vi assicureranno la gratitudine di migliaia di persone o instillare in oro il terrore questi sono tempi bui albione in preda alle forze dell'ombra e dei venti minacciosi le tue scelte sia che ti conducano sulla strada del bene o del male cambieranno il destino del mondo l'altro l'ho fatto diventare cattivo i sigilli della gilda e avventuratevi là fuori da eroe ok vedi da eroe ragazzo è ora che ci lasci comunque farai sempre parte della gilda sul tavolo della mappa troverai i dettagli sulle missioni che i cittadini di albion vogliono dai loro eroi l'hai visto e dovrai tornare qui più spesso per tramutare la tua esperienza in nuove abilità progredirai come eroe solo se lo farai con regolarità progredirai entra nella luce e ti mostrerò come farlo entra nella luce ma che cazzo entra nella luce però io vorrei cambiare il 7 beh stai calmo vedi con il 7 fa così entra nella luce e ti mostrerò come farlo me l'hai già detto devi prima scegliere in quale area vuoi perfezionare la volontà hai scelto volontà potresti diventare un potente stregone puoi utilizzare l'esperienza acquisita nel combattimento con la magia per apprendere ah hai scelto abilità potresti diventare un esperto ah hai scelto forza potresti diventare un grande guerriero puoi utilizzare l'esperienza acquisita nel combattimento in mischia no dai non lo dice più per aumentare il tuo fisico salute o resistenza scegline uno dai non senza quello diceva dov'è il fulmine ora scegli quale incantesimo vuoi imparare beh ecco ce ne sono tante che posso solo la palla di fuoco mi fa schifo la palla di fuoco dov'è il fulmine energia magica aumenta la tua capacità di accumulare mana ok aspetta un attimo forse allora volontà si volontà attacco eh c'è sto eh vedi a fulmine quanto costa 5.700 vabbè prendiamoci il mana vabbè prendiamoci il mana ok perché devo comunque prenderne non c'è molto altro da dire comunque sarò sempre disponibile per darti dei consigli se un eroe hai visto il tuo sigillo della gilda mi permetterà di contattarti in qualsiasi momento noterai che lampeggia quando hai sufficiente esperienza da utilizzare ti ho dato delle scorte di base dovrebbero bastarti per un po' fuori c'è un intero mondo da esplorare ma ho dato le scorte eh addestramento della gilda ok quindi salvataggio automatico non è no oh ah visita la gilda per nuove missioni sei ma stai calmo stai non si sta calmo non si sta aspettate che c'è rica guardate le chat che mi hanno scritto adesso ma dai mi chiamano ancora posso essere d'aiuto cosa posso fare per te mamma ma cosa posso mostrarti c'è qualcosa in particolare che posso mostrarti amico mio in modo vai un attimo ragazzi tu stavo leggendo la chat c'è 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 non rimarrai deluso sei venuto nel posto giusto compra ne ha solo una cosa ah no dritto dritto drittone ah drittone albion è piena di missioni creatore da uccidere gente da salvare fatti lì vai vai albion andiamo cavolo perché eh hawkvale ci vuole un po' per arrivare a hawkvale ti sei guardato allo specchio ah aspetta aspetta pus se potessi impugnare di nuovo una spada ti sbudellerei su due piedi vediamo che dice così bullo ti sei guardato ma è guarda questo mucchio di sudicindi dai ma è quello di quello lì l'avete riconosciuto si aspetta davvero che la gente gli diede l'oro vuoi unirti no beh se vuoi posso insegnarti qualcosa che procurerà molto fastidio in passato ero un avventuriero come te guardami adesso costretto a mendicare per sopravvivere e a subire le incessanti angherie di questo mascalzone ti vuole cos'è sbudellerei sì quindi vuoi unire vuoi sì dovrai riuscire a sbarazzarti ma se invece faccio unisciti al bullet che succede se riuscirai a farlo fantastico piccolo presuntuoso non sai affatto come vanno le cose al mondo però devo devo no aspetta lo sciotto no è fin ah ok voi miseri eroi siete tutti uguali la cosa più divertente che abbia mai visto hai la mia gratitudine eroe sono sicuro che ti farai molti amici durante i tuoi viaggi forse ci rivedremo eroe hai visto dai gli ho tirato una hit no questo qua non lo vedremo mai perché stava e quindi mi ha dato l'azione buona non me l'ha data allora dobbiamo andare andiamo aspetta intanto distruggiamo le erbacce prendiamo tipo l'oggetto cos'è questa cosa qua che cos'è la chiave una chiave chiave d'argento ok e me ne servono tante non l'ho mai non l'ho mai trovata tutta ce ne sono tipo 50 non mi ricordo allora andiamo qua adesso c'è l'aprg no aspetta dopo perché mi devo prendere la mission andiamo a Oakvale si Oakvale ok ciao come si chiama a Bavolson ah ne ho già due ho due vite mazza il massimo di vite è 9 il massimo è 9 intanto c'è un po' di aria cerca di aumentare ancora il tuo moltiplicatore combattibile c'è un po' di ma maestro stavo facendo si sta spingendo il teleco amico pronto permesso si può entrare Bavolson vedi Bavolson ok ah ok ok sei nuovo di qui vero eh si da queste parti abbiamo delle regole che dovresti conoscere c'è chi c'è ma ha inviato la foto Bavolson è una città pacifica per il momento dovrò confiscarti le armi ah eh come ci sono negozi locante ogni genere di persone giochi insomma un po' di tutto ogni genere di persone perché non fai un salto alla taverna per cominciare è la costruzione di fronte a te lungo questa strada si ma è chiuso il tieni gli occhi aperti e per Lady Grey Lady Grey trattala con rispetto ah la pappona dopo tutto è il sindaco dai un'occhiata in giro e goditi il soggiorno a Bavolson me la godo si si vado ricorda non fare cose illegali no no armi come cos'è aspetta ah ok ho le indicazioni ah aperto adesso salve salve ci vuole una buona birra eh ma mi dice salve ti serve un bravo spadaccino no no che sono venuto a fare qua ah ok eh fa una la taverna amico mio ehi non puoi venire qui devi avere un permesso cosa vuole mi ha inviato la foto sicuramente ha catturato un altro poco ma non me lo sta ribacciando sto cretino posso teletrasportare vediamo dov'è permesso vediamo dov'è mi fa tredo si ah ok ha la gilda solo eh perché sto solo lì e niente allora giriamoci oh eh qua però adesso andiamo oh cioè prima che arriviamo ci vuole un po' ah vediamo se riesco a più a qualche arma buona o volevo qui sei sicuro di trovare quello che fa per te compra come compra zero scusami allora questa qua fa spada lunga eh toglie 30 di danno questa qua fa fa più fa più danno quindi aspetta profitto 119 130 eeeh un po' divendo questa così ho la katana di ferro la katana di ferro lunga me l'hai messa nel oh no sono parecchie creature da uccidere male creature aspetta un attimo abilità adesso oh guarda eh armi come faccio a impostarmi katana di ferro e perché non me la fai mettere gioco ah perché ah si perché qua non me la ok 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 sì sì scusco scusco eeeh mi dice nella taverna devo c'è uno che mi ah è la lua benvenuto al cosa stimola la tua curiosità grazie per eh ok andiamo a fare ti serve un bravo ma stai calmo che paura dai ma è la è spawnato il puntino verde perché è spawnato era lì perché è spawnato via dalla mappa dai dai è sparito dai era qua ma assassino di ragazze amico mio ti arriva una cosa in testa cosa ah no ce la guardano perdono rispetta la legge salve signore ma ma chiama c'è una carta missione importante da parte della gilda per te d'affari con le guardie ma chi te vuole parlare eeeh guardate i bimbi che giocano a saltare gioco gioco anch'io no no i negozi stanno chiudendo f2 dove andrai ha ruttato male eeeh vabbè e niente è spawnato quel puntino eeeh permesso per maggio tequila che ore sono scusatemi aspettate vediamo che ore sono vediamo che ore sono mi dice il telefono al centro mezzogiorno è dispari a luna stacca amici ok andiamo di qua ma dai è spawnato quello lì ah beh boh forse non mi ricorderò mai ah è qua è qua ah è entrato qua dentro allora quella lì ma non era quella lì sicuro e qua c'è la la nonna la vecchia via la vecchia eh scusami un attimo hanno messo il loop il suono delle persone c'è una persona che è seduta lì perché il loop vabbè se vuoi avere successo eh vuoi avere successo continua eh ma amico mio ma dai non credo che tu conosca mia figlia no è piuttosto attraente conosco ma è ansiosa di conoscere uomini forti e piacenti vabbè vai fammi la signorina vuoi conoscere la figa del del calvo del calvo barbuto del calvo barbuto si ah che bella notizia penso che cominciasse a sentirsi un po' sola è normale le piacciono gli uomini con i capelli simili a quelli dell'immagine su questa scheda quale scheda? a casche a casche oddio mio a caschetto forse se facessi qualcosa per assomigliare di più all'immagine potrebbe a consentire a conoscerti a consentire viene da me quando sei pronto hai trovato una scheda d'acconciatura ok come la facciamo a metterla? di abilità inventario andiamo con l'inventario oggetti abbigliamento non mi ricordo a schede una acconciatura caschetto e come faccio scusami a metterla? forse ce l'ho già no? eh non me la fa a metterla vedi eh io potrei caschetto come la metto scusami vedi non me la fa digitare ma scusa non sono già a caschetto non me la fa mettere come me la come me la metto il caschetto a consentire alla cosa io vado nell'inventario no no era lo stile ma chi ti ha detto che ti ha detto di inventario stile eh mi me lo metti e chi ti ha detto di ritornare indietro amico mio ma allora me la fai stile è questa qua è questa qua e perché non me la fa mette vedi il taglio scelto dai bambini molto in voga ma spavento meno 50 non me la fa mette di che perché non me la fa mette e niente non ce la fa mette e non posso tagliarmi i capelli amico mio no non ci siamo proprio non vorrà nemmeno parlarvi con quella cucetura ma amico mio scusami un attimo scusami se io vado nella aspetta se lo devo dire bene vado qui per me il caschetto poterlo come dove vedi non me la fa mette non me la fa e non cambia un uomo deve avere dei bei capelli dai ma me la rinfaccia questo qua l'abbiamo capito come l'ho perso la vita dai stile aspetta basta abbigliamento testa nessun cappello indossa nessun nessun ok ho fatto nessun cappello devo indossare nessun cappello bello eh le mani vediamo un attimo no aspetta però prima mi mancava la vita l'ho visto come come faccio 5 eh ieri erica non me lo fa mettere come faccio ah spero 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 andiamo a gioca bene le tue carte e sarai felice felice sarai ma andiamo ma perché scrivono allora aspetta vediamo se innanzitutto riesco a mettere ma mi metti il ma perché fa come gli farà lui in pugno eh non me lo vabbè ma non posso e come scusa e come li mettevo porca miseria e come faccio a ordinare è un casino adesso è un casino come faccio a ordinarmi ecco se sotto ma guarda che opzioni tanto salviamo il mondo adesso si salvata cosa succede però che ca no amiche ti fai aspetta pigliamoci la missione del perigino prendi la carta missi ah stai calmo si si però non riesco a fare le cose non riesco cioè poi sarà io che non ho capito come si va però è ancora giorno ma si si ah con l'acqua no no se segui gli indicatori dorati sulla mappa raggiungerai il tuo obiettivo missione mi dici come mettere le acconciature le vespe stanno attaccando l'aria da questa parte si lo so lo so vai vai vedi più lento di me lo so lo so amico mio da questa parte arrivo arrivo riprendere l'arco fammi anzi no non mi serve l'arco ma stai calmo ma di notte le vespe quella luccava da questa parte ti prego devi salvare i miei amici gli amici 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 salvaggio automatico non è vero perché non mi salva eh fastidio aspetta gli sparò gli sparano la freccia la freccia perché ci sono quelle piccole adesso fastidio me l'ha messo sul 7 me l'ha messo anzi no io vado contro aiutami e arrivo arrivo grazie per avermi salvato a lei parlerò a tutti di te grazie grazie ma volevo non colpire la signorina non colpire come l'hai presa la pozione volontà a lei racconterò a tutti della tua importe ce ne erano tre questo è un gigante ehi ehi e qua a me serve l'arco anzi no per il momento non ancora però le spalle eh va ah beh ha detto batti le vespe tipo l'ha detto velocissimo c'era un testo per prendersi il tuo arco potrebbe servirti contro la vespa regina ma va dai ma no riprendi vedi me l'ha messo sul set attacca nuovamente la vespa regina ricorda di anche usare i tuoi poteri della volontà ma sono finiti sono ma facendo dei buoni progressi nell'apprendimento dei moltiplicatori combattimenti ma quella vespa non so se ma non me lo dire non è finita adesso quelle arrivano bravo ma stai calmo un tipo eroico amico mio cos'hai detto come un eroe va bene no 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 sei diventato più famoso 1660 iscritti no coglione cosa mi dici sei diventato hai ricevuto una nuova missione che palle ecco il super femmine oh c'ho una che ha te ci stai no allora lì ho visto cose e ce le andiamo a prendere ehi ehi allora prendiamoci questa come la prendiamo così torta di mele mangiata verde ma perché le mele è tossico quella roba lì quindi due mele sul tavolo ho trovato una una barba standard la barba standard l'ho trovata quella è morta nessuno fa niente logicamente quella è morta cosa si fa nulla ah un altro ma io aspetta un attimo si è muovuto un alimentario stile non me la fa mettere perché non me la fa mettere non me la fa mettere ma che cavolo ma scusami perché devo mi sembra non l'ho detto mamma me del tipo che chi è salve non capisco cosa ci trovi in te ma so anche che raramente si sbaglia è il tipo che maleducata il mio nome è rosa spina avrai sicuramente sentito parlare di me rosa spina non sei il momento per gli autografi devo andare alla radura di not all per un'importante missione dove se sei venuto fin qui per una carta missione ti avverto che le migliori sono già state prese alla gente ti troveranno qualcosa da fare ho sentito che nelle cucine hanno bisogno di uno sguattero lo sguattero ma tutto lo sguattero ma che paura se tu stai qui perché me lo devi alluccare no D'edalo ti aspetta fuori dalla taverna di Bowerstone Bowerstone D'edalo la vedi base degli orrori è una Bowerstone come le piccini picchiamo si vede si sente bene tranquillo eh no no lo vedevo un attimo foscheto quindi dobbiamo uscire da qua ok ma c'è D'edalo D'edalo dov'è? ma maestro mi hai detto che c'era D'edalo all'ingresso di Oakvale c'è qua non c'è ah la ta ah devo andare nel cosa posso mostrare non mi mostra niente la porta adesso quindi qua dentro un eroe ok qua 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 eccolo qua da questa parte oh dimmi dici niente mi dici come si cambiano le acconciature mi fissa mi fissa tutto bene ti sei goduto tutta l'attenzione vero? si ho saputo del tuo incontro con la Vespa Regina quasi tutta Bowerstone parla di te ma tu non dovresti prestare attenzione a queste cose ma che razza non è per questo che ti ho chiamato forze maligne si stanno riunendo per umiliare il tuo insetto gigante dimmi cosa ricordi della notte in cui ti portai alla gilda e dell'incursione a Oakvale? e io volevo restare lì non molto che notte terribile temevo che quei banditi avessero sterminato la tua famiglia e che tu saresti stato il prossimo ma sembra che quella notte sia sopravvissuto qualcun altro tua sorella cosa stai vedendo Jackie? hai inviato è un pettegolezzo e non c'è modo da accertarlo ma ho pensato che dovessi saperlo e per amor del cielo finché sei qui cerca di trovare qualcosa di meglio di quell'equipaggiamento di base però basta che non ti ingazzi si ingazzi cosa stai vedendo? ricorda paura visita la gilda per nuove missioni ma fatti lì cazzi tua allora quello mi ha detto di che dice questo? eh dimmi eh dai dai perché sto seguendo questa qui non ho pensato male ma ha detto seguimi sperla questa? però come cammina questa? ma ha detto seguimi la bambina ah dalla ma molto bello oh che strazio mio figlio è malato ah devo ah questo è lungo il mio ruolo per un piccolo figlio dall'inambore stavo facendo un picnic all'osservatorio quando ha trovato quegli strani funghi la strega del porto di bowerson ci ha detto che può fare qualcosa ma per curarlo le servono altri funghi di funghi mi metterei a cercarli io stessa se non dovessi occuparmi di altri potresti darci una mano di chi? eh i funghi però non mi ricordo dove stanno signorina uno so che lo devo comprare per 3.000 a quello lì ah io? no no signorina allora è questo aspetto di un eroe si forse hanno bisogno di te al frutteto e quel sciupato ma ero usato male f3 ehi ehi cosa? mi piace? si dai signorina venghi f3 ehi che piace? però come gliela do la botta se non fa niente non fa niente glielo faccio pure a sto tizio guarda eh? eh? cosa? ma eh non volevo eh va bene di qua di qua c'è ancora quel tizio di prima? dovrebbe esserci ecco c'è? aspetta cos'è? ah no aspetta 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 ah si vede è lì e non me lo fa mettere la concedura amico mio parliamo con la la vecchia che desidera? no non dirmelo gli ha mandato da me quella brutta scocciatrice quella con il figlio malato ah eh oh non fare quella faccia sorpresa sono una strega al giovedì leggo sempre le foglie di tè inoltre non sei il primo ingermo mandato qui da quella donna portami quattro punghi blu e potrò finalmente preparare l'antitoto ma fai con calma il bambino non è in pericolo di vita quella piccola peste si sta divertendo un mondo no ma da la posso menare che succede? picchiera la gente potrebbe oh no come osi trovaci ancora e ti lancerò un incantesimo pruriginoso oh no no oh no ho bisogno di quei funghi blu per preparare l'antitoto di solito il mercante del campo dei tumuli è ben fornito nella sua bancarella in riva al fiume ne troverai sicuramente qualcuno quelli che hanno comprato un fungo si riconoscono lontano un miglio sono tutti un po' confusi ho capito che funghi sono signorina signorina anche no allora come me li metto non me la metto non me li fa mettere la conciatura non me la fa cambiare lo va detto ai tumuli facciamo una piccina cosa quello l'ho già fatta no 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 spesso sono più vicino da qua aspen mi son peo aspetta dove si esce adesso da qui ok sono arrivato da là e dai ok di qua di qua e non si riconosce si capisce molto no 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 come di qua Ah c'è un'altra missione secondaria Vediamo chi è Non volevo Se stai fermo Posso vederti lo scheletro Incredibile amico Sei uno della gira Davvero? Che forza ragazzi Se torni da quelle parti Forse potresti trovare il nostro fungo Il vostro fungo Ero seduto in riva allo stagno Quando a un certo punto la porta ha parlato Mi sono così spaventato Che il fungo mi è scappato di mano Quale è il stagno? Oh Ce l'hai con me Le onde sonore possono farti girare la testa Dentro il sole Ti farei vedere il mio fungo No no Non farmi vedere nulla Ma io non ho capito Quale stagno? Ma non volevo La porta mi ha davvero spaventato Ma il fungo non mi è caduto di mano amico Non dirlo a Bernie Ma credevo che gettandolo nello stagno Il mondo sarebbe stato invaso dai fiori E avremmo vissuto tutti in pace Quale è lo stagno scusami Lo stagno Non mi ricordo Stagno Vabbè andiamo di qua Aspetta Si Grit food Grit food Eh non mi ricordo Eh difficile Non è che fai Mica facile Guarda che sono una chiavica Hai visto che sono una chiavica? Eh ma peffa Stiglio del set Me li prendi tutti e tre Ah no è vero Perché non ho fatto i potenziamenti Potenziati Ma l'abbiamo capito L'abbiamo L'ho capito Eh c'era un tasto con il Eh Oh accidenti Non fai nulla tu Dai che ci crepa Dai Maz Eh questo cuore Maz Però io sto andando pure lui E guarda Come va il nostro mondo? Eh guarda come va il nostro mondo Ma che domanda è? Un eroe Un eroe Hai visto che ero no? Una volta conoscevo un sciofa femmine mi sembra Ma allora prima che ti Mi vendi qualcosa Non mi vende nulla Ma se l'ha acceso Vedermi Non mi vende Il nostro deficiente Semplice 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 Hai visto quanto io sono Semplice Semplice Ma io non ho capito lo stang Ah C'è una carta missione importante da parte della gilda per te Adesso arrivo Amico mio Forse lo stagno intendeva Dai dai C'erano questi qua ci potevano male Però ne ho uccido C'è uno E' tirato un'altra Sottola in destra Ma che fastidio Dove sei? Fastidio Eh Si è buggata la cosa Un po' buona Dove sei? Fish Creek Me pare con questo Superfame Aiuto Aiutatemi Sono ovunque Non so come uscirne Aiutatemi Quanti siamo? Sono uno Si è bloccato amico mio Quanto easy Ma è la Ah Grazie mille La mia lenza è in acqua da così tanto tempo che ho i brividi Mangio vermi da una settimana Non potevi arrivare in un momento peggiore Devo organizzare un torneo di pesca Eh pure questo Pure questo Ciro Facciamo così Ti offro un ingresso gratuito al torneo E' il minimo che possa fare Ah il torneo Questa canna da pesca ti servirà L'ho fatta io L'ho fatta lui Devi solo gettare la lenza Ma l'abbiamo capito Si 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 Allora Eh Se ne va se ne va L'esperienza se ne va Devo gettare la lenza Aspetta Prima di fare questo C'è un Eccolo qua Il baule Mi ricordavo che c'era Ma Eh Te l'ha fatta lui Attenzio 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 Ma Sbilliciamo ancora Allora Qua Mettiamo F1 Adesso è qua Difficile Devo cliccare Velocemente Rapidamente Sì si Abbiamo Che Gloss Lo so E tanto Eh Tanto non mi freghi Non ho tutto Ehi 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 Eh Non è mica facile Sarà un figlio di Hai preso qualcosa Scusa Scusa Ah 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 Ma Eh Facciamoli in tutti i punti Perché dove Sono il pesce Cioè di solito Dava tipo Oggetti Oh Hai preso qualcosa Chiave Ah Hai visto C'avevo ragione Che dava gli oggetti Aspetta Ancora Non Non Ma Alla la cosa Che si dice Della lente La Cazzim Questo era Quasi all'ultimo Quindi Dai Cioè Mi sa che non si vede Su youtube Perché c'è la mia webcam Lì C'è la web Dai Quasi fatto Si vede il pesciolino Vediamo se si vede Ma dai Non l'ho visto A 100 Hai visto 100 Così tanto E tanto F1 Vai F5 Perché c'ho C'ho la mano su Qua Ehi Ehi Siamo con il doppoclick Già a sto punto Essere rotta la lente Questa canna qua Fa un po' schifo Ho fatto un produs Mezzo alla canna Un prodotto Piazzamento C'è stato difficile A prendere Il primo Vabbè la prima Di stronti Non tanto Non me li fa mettere Non me li fa Fottutamente Mettere Lancia l'esca Dove vedi l'increspatura Ma Devi urlarlo così Tanto forte Lo sto facendo Si vede Si vede Ciro In alto Osto a destra Mi sa che Si vede E' sopra La webcam Se vede Si vede Ah pesce d'oro Gran belluccio Ragazzo È davvero un diavolo Di pesce Dovresti tornare Più tardi Riporterò in auge Il buon vecchio Torneo di pesca Se ne hai voglia Qui intorno E' pieno di punti In cui pescare Belluccio Vabbè Io ritorno Ritorno Andiamo Eh però Oakvale è lontano Porca di quella Oakvale Eh Oakvale Stiamo qui Oakvale Eh è lontano Oakvale Eh no Non si vedeva Forse Poco poco Questo mi ha mandato La foto Ah eh Quando mai Gigi Mi ha inviato La foto Di un pokemon Ok ok Dio mio Che ore sono Luna Un momento Mamma me A pensare ai pokemon Eh Gigi I pokemon Ehm Ah ok ok Che dice Scegli il tuo cammino Saggiamente Eroe Al fruttese Dove andare Al fruttese Ok quindi Vediamo Nella forza Fisco salute Allora io mi sto facendo Do Che ti ha detto Di Eh volontà Sì Come come facevo A cambiarmi Mi fai mod Ciro Allora mi devo Devo Sto mettendo La I coins Perché Perché me lo stanno Finendo In tanti E poi Non c'è mai Nessuno E quindi Per questo Bro Però devo capire Come si mette I coins È tipo Perché su un Nightbot Non c'è È tipo Un altro Bottle Qual'era Qual'era Quello Lì No Ma chi T'ha In culo Volevo dire Volontà Sì Volontà Qual'era Quello No Non è questo No Ma Perché Non mi ricordo Qual'era Ah E questa qua Sì Più due Quando costa Eh costa 2008 2008 2008 E noi andiamo Subito La palla Giusto Giusto Cosa posso fare Per te E tanto Bro Non Lo dici sempre Eh Bro Ma tanto Per il momento Dio mio Chi è Ma io non ho capito Che questi qua Che devo fare Devo trovare Tipo Il fungo Aspetta Il frutteto Di qua Di qua Sì Il frutteto Devo andare Nel frutteto No Aspetta Questa è La rai picnic Porca Il frutteto Dove Cavolo C'è una signorina Ah no Eh Che cavolo Non funziona Mi vuoi dire Perché non succede Niente straniero Ho mangiato Il fungo Sì Dicevano che Mi avrebbe fatto Cadere i mutandoni Dalle risate L'ho mangiato Ma non succede Niente No No Per adesso Neanche un sorrisino Riesci a farmi ridere Avanti Sforzati un po' Dobbiamo farli ridere La signorina Quattro Come vuoi Ma che cazzo Ancora? È troppo Davvero troppo Ecco Prendi questo Sei il mago Della risata Ma ha dato Ha dato i soldi Ha il fungo blu Ma non l'avevo Mangiato Ok Uno ce l'abbiamo E se ne va Ma non l'avevo Cos'è Ma poi scusa Ma ho sentito Famoci domanda Eh Che si Che cosa Salve di nuovo Eh ma che Forse hanno bisogno Di te Al frutteto Andai la caccia Alle ragazze Eh si Però non Cosa pensi di lui? Buongiorno Eroe Ma a lei Ma cosa c'è sto rumore? Il frutteto Eh si 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 Scassa Ammazza La tizia Allora Eh Osservatorio Osservatorio Ma perché Non Non Lo dicono? Cioè tu Devi andare Ficco Serga Allora Qua Il nuovo Acqua C'è una carta Missione Importante Da parte Della gilda Per te Ma che Palle La gilda Allora Facciamoci L'icazione Andiamo A O Quella non riesco a cambiare le cose sotto non mi ricordo come si fa che palla è la cosa che non riesco non mi ricordo come ho fatto di cambiarla valla ho capito bub ho visto oh lascia ma io non ci credo eh vabbè ah non mi frutteto eh frutteto quindi è qua il frutteto mi sa che devo andare alla gilda però per prendere prima la mission mi sa tanto di si non lo dice no eh eh capirlo proteggi il frutteto eh proteggi proteggi accetta missione scommesso proteggi il frutteto si nessun graffio no ammati no no proteggi eh eh beh è la missione proteggi le guardie nessun graffio no nessuna protezione nessuna protezione nessuna protezione nessuna protezione è una 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 protezione 3v1 per maggio per messico e siamo di nuovo ma allora mazzia con un gol e dai si è visto bene devo prendere l'esperienza che fa questo? è un mercante? sei venuto nel posto giusto si vediamo che vende compra perché scusa mi dici 43 poi ne so hai 3 cose ammazza e noi ce lo prendiamo giusto ammazza e però quanto costa vabbè compra 24 le pozioni le compro peccato non ho il denaro perché è così ho sentito che già gli agricoltori stanno attraversando un frutto cerca di aumentare ancora il tuo moltiplicatore combattimento qui è Gesaia non è Gesaia è così fatti riga la tua eh mamma me non sembra ma a posto si a posto no ma sei spaventata lì cittura pastiglia oh di qua è fottese no non è di qua non male che mi ricordo hai visto aspetta di là c'è una cassa però prima c'è una cassa però prima oh ben ci ha ripensato quello ehi quante cose piale piale ok ok la cassa qua la servono eh eh ma qua lì si è della volontà vabbè andiamo adesso dobbiamo difendere pure le guardie eh difendiamo le guardie frutte adesso dobbiamo difendere pure le guardie ma scusami un attimo ok come come passo scusa devo andare per forse di là allora eh non mi fanno perchè non è che si bugga si rotta ma basta se ti resta con questa mostra ma sti ma si ancora vive io vi devo non incorrere la 3v1 lo speriamo lo speravi ora devo andare ecco eh non mi fa passare di lì non mi fa niente dici vai a fulterlo ma se non mi fa passare cosa vai vai eh non è lo stesso che cosa ci fa dal fulterlo adesso qua spawna quello grosso ah no mazza sono velocissimi ma ho solo 14 è stato un gioco da ragazzi ma perchè mi devo andare voglio piarmi ma per me c'è poca vita devo prendermi anche un po' di vita oh questi quali shot mangiamoci F2 ok perchè la la melana ah ok quindi devo andarti la vuoi a poco così comandiamo Fox oh a poco così hai visto che paura ha mangiato la torta che ha fatto il suono di una mela la Apple ah devo entrare di qua abbastanza per noi sei qui pensavo non avrebbero risposto alla nostra richiesta alla Gilda ho pensato di assegnarti una scorta per aiutarti ma ci sono così tanti banditi raderanno al suolo la mia fattoria vorrei non aver mai trovato queste dannate pietre ci hanno portato solo guai Jenna non le lascerebbe vicino alla casa quindi le abbiamo messe in alcune ca... perché è nudo? non l'ho presa quella missione lì però devo... eh vedi nessun graff... eh niente è finito è ora di uccidere dipende pure le guardie capiamo ho visto nessun graffino il tuo livello di salute è basso hai delle pozioni o del cibo non l'ho capito ma difendi le guardie tu non puoi passare non ho capito attenzione stanno arrivando i rinforzi dei banditi il tuo livello di salute è basso hai delle pozioni o del cibo? maestro me lo devi dire ogni tre secondi di uccidere eh per l'onore ma... eeeh ah no ancora vivo infatti dicevo che mai che è niente tu non puoi passare io... io non lo... il tuo livello di salute è basso hai delle pozioni o del cibo? vediamo il cibo mi mangio la mela uso arrivano altri banditi eh ma credo che devo prendere questi cerca di aumentare ancora il tuo moltiplicatore combattimento io ho studiato una ic voglio morire tutti a roba ma nooo sette sette mi hanno messo sul micro micro gusto dai muoviamoci ma io non ho capito che devo fare devo portare le casse ah no allora hai imparato qualche nuova mossa? viva le mele ma non sei l'unico spero tu abbia imparato a usare le mosse fiorenti è l'unico modo che hai per avvicinarti a me prossimo mese prossimo mese continuo cerca di colpirmi con una mossa fiorenta non sei fare allora ma ti batterò lo stesso lo sai fare allora? ma ti batterò lo stesso ah la schiva la schiva la tua eh vabbè lo schiva eh vabbè lo schiva l'hai fatta non so dirti quanto ti siamo grati spero che mi ridia loro presto dovrebbe arrivare qualcuno a prendere le casse quindi non dovremmo più avere problemi con buona ragazza chissà come mai c'è stata tanta confusione per quelle pietre vorrei proprio saperlo devono valere un sacco di soldi per qualcuno eh mi stai finito parlerò a tutti di te abbiamo bisogno di eroi come te da queste parti eh ma in faccia mi ha applaudito il tuo livello di salute è basso hai delle pozioni o del cibo? però maestro me lo devi dire ogni volta ce l'ho il cibo ehi 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 anche qua mi ha dato la ricompensa salvato al giotomatico non è vero aspetta eh vediamo nell'inventario ehh oggetti scusa oggetti c'è il cibo pozioni ciberi vediamoci le mele fullone? oh qua ora sei abbastanza buono per usare l'espressione scusarsi ma prima non potevo scusarmi ora sei abbastanza famoso per usare l'espressione soggignare che soggignare? hai raggiunto lo stato di sconosciuto però porca stai calmo visita la gilda per nuove missioni me lo devi dire con un'enfasi così visita la gilda aspetta ma i vestiti? i vestiti ma guarda che mi ha lasciato un oggetto abbigliamento testa nessun cappello elmetto indosso aspetta eh 38 38 50 ma si vai vai è torso è molto torso 200 più 47 47 abiti abiti ah e 70 ah questo è buono però 32 32 66 41 è uguale è uguale è uguale assistiamo così ci sta no? no vabbè eh dai procediamo aspetta di spirit dove si va di qua? qua potete stare macchissimo dove si andava di qua? non mi ricordo ti piace footnight? beh bellissimo lago di grit eh no allora devo tipo ritornare indietro? non mi ricordo dove devo passare non mi ricordo mica su via ci ho giocato a footnight quella volta con con te che c'eri pure tu e la sera ho giocato ho fatto la coppia con con sasà eh e solo per quello eh sono qui cazzo che l'ho scaricato ah l'ho disinstallato eh ah no aspetta dovevo andare avanti ah no mi prendi la ah dai e già adesso c'è quello lì che mi dice hai poca vita stibio ma male è schifo oh 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 ma così no ma chi ti ha detto? vai 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 banditi banditi giuliani ah 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 eh mostra è morto è morto vai vai ah dove giuro che ce n'era un altro qua vuoi scappato vai vai guardate qua occhio occhio eh sei cambiato sei cambiato devo andare lago di gritwood eh ehm era quello dall'altra parte non mi ricordo lago di gritwood no è dall'altra parte eh sì sì di là allora porca non mi ricordo vediamo di qua non mi ricordo di qua eh footnight ah sì sì di qua di qua eh non mi ricordavo footnight footnight hai visto? ho shoppato 1800 euro 1900 euro però io ti stavo facendo l'altro l'abbiamo capito hai delle pozioni o del cibo? no l'abbiamo capito ho shoppato 1000 dis per i euro ci gioco sempre un bel gioco dai dai è morto il bandito giuliano memico individuato dove sei? il tuo livello di salute è basso ma l'abbiamo capito hai delle pozioni o del cibo? parna rossa bb mi fa bb eh ricorda però prima qua ero passato eh abbiamo capito ho sconso o del cibo? si crepono mica devo usare le maniere l'elettrifica... oh ma sono tosti questo... odini e tosti il tuo livello di salute è basso hai delle pozioni o del cibo? dai... cibo... mangiamoci la mela... così questo qua... si riempia la vita che gola di Gritfood? stiamo andando a Rockvale? ehm... ah si si fai attenzione agli budello spero tu abbia portato loro richieste... questi banditi ci uccideranno per puro divertimento non mi saluto... ma passa e non saluti? che passa a fare? allora te sei uccido surdo si spiacente ma questo sentiero è privato... dove si è scritto? se vuoi passare dovrai pagare ma pure... oppure potremmo usare la tua testa come soprammobile... scegli tu! allora a meno che tu non voglia mettere fine ai tuoi giorni... dacci l'oro... dacci l'oro... consegnaci la grana e ti faremo passare avanti! no no a tutto il giorno... facciamo il comodino... forza sgancia quell'oro... ma io non voglio... consegnaci la grana... ma lo facciamo così... BOOM BITCH! strappa le braccia... strappa le braccia... quando vacci da tu... ah c'è una carta missione importante da parte della gilda per te... ah non me ne frega assolutamente... impossibile che non mi hanno visto... cioè è morto il compagno... 10... facciamo le cose alla stelta... non c'è morto... eh oh... però se me ne vengono una volta è morto visto... ma guarda quel cretino si è... ha colpito l'alleato... ha colpito l'alleato... il tuo livello di salute è basso... hai delle pozioni o del cibo... ma questo si fa colpito... ma guarda... dai... questo qua mi colpisce... non volevo... eh... bro... 3 di 1... si sono tosti questi eh... eh niente... si l'abbiamo capito... eh c'è un poca vita... non posso guardare... hai delle pozioni o del cibo... eh una vita me ne sono andata a fuck perchè... diamoci la mela... eh ho perso una vita amici... tanto me le ripio poi... tranqui... no no non volevo usare questo... ma chi ti ha detto di ritornare indietro così tanto... il cibo... la mela... vai vai le mele... sono buone queste mele... cerca di aumentare ancora il tuo moltiplicatore combattibile... no... quanto non dammi... aspetta eh... facciamo un ciclo lì... facciamoci... ah ce ne sono tre lì... mazza... sai una cosa... allora... vediamo un pic di... c'entralla la capa... quanto non si può soffermi... perchè ti muove... si muove... non sta fermo... si muove... bella madò... ti sbuterò... sta per succedere qualcosa... guarda mo eh... guarda mo eh... oh... cosa... vabbè... ma l'hai sentito eh... mazza se fanno male questi... mo devo andare a curare... porto di me... e uso effetto... anzi non... spignetta la luce cos'è... ok... è andato a dormire... diciamo... ma... eh... meno male che non mi arrivano tutti insieme... se no sarebbe la fine... eh eh... ti sei un po'... sei rabbagato... vai vai vai... andiamo a citere... questi qua... no... aspetta eh... uccidiamo prima... il capo... questo qui... no lui... vabbè... si sta con la capa questo qui... questo qui si va con la capa... però si muove... questo... lo sta... quanto grisci... incredibile ho fatto... eh... ti farò assaggiare... vabbè... 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 uh... c'è doppio lama... eh... è... vinto... il tuo livello di salute è... non so... lo so... vado a fare tutto questo... che ti ha detto il... la tua salute è critica... eh... devo sprecare le cozze per... c'è veramente poca vita... quindi... due hit e mi sciottano eh... infatti una vita me l'hanno levata malissimo... ma mi prendi la... eh... le sperie... il tuo livello di salute è basso... oh fuck... hai delle pozioni o del cibo? eh... ah... meno male che c'era la z... ma te l'ho tornato la vita raga... ma porco demonio... ma chi l'aveva... detto che esplodeva... eh... quando su Twitch? ah... vai... eh... mi viamento fiammo... quello me lo tengo... porca... questi... eh... c'ho poca vita... c'ho... c'ho... 500 di ore... e chiudiamo la live... stacchiamo la live alle... le due... come mai... come cazzo... allora... eeeh... ah... qualtri cazzo... aspetta eh... prima che... esplodono di nuovo... aspetta eh... perchè ancora esplodono... ah... eeeh... queste non esplodono... vabbè... mi ha dato cose... ah... una... pozione... quindi... tab... vieni su... Twitch... ma... tremone a me? tremone a chi? ok... tremone a chi? allora... quindi... non c'è più nulla... mi manderò... del giro... mi manderò... aspetta un attimo... ti ho fatto... come dire... ah... ah... c'è una carta missione importante da parte della gilda per te... eh... intanto non ci vengo... vado... devo andare a Occoville... e poi se fanno tutte le missioni che vuoi... amico mio... è abbastanza lontano... è abbastanza lontano... sei un tremone... vai vai... eh... guarda eh... ho finito le vite... eh... ne avevo due così belle... ti piace anche Fortnite? è un gioco molto bello... ho shoppato mille disperi euro... eh... siamo a P... culis... eh... great food... culis... ma... eh... ma perdonami... come quei culis? eh... ci sono tutti questi... eh... eh... come già ho sentito... ma però... devo mangiare un'altra mela... ma lo sappiamo... hai delle pozioni... o del cibo? ma questo mi... mi colpisce... amici... tua... vedi... devo mangiarmi la mela eh... se non qua ci rimango... aspetta... ok... mangiamoci la mela... devo andare ad aggiungere l'alimentario... vedi... allora... armi... oggetti... pozioni... cibo... mangiamoci la torta di mela... un po' di più... infatti ma fu un blocco... eh... c'ho un po' capito... quella vita lì... andiamo a uccidere quello lì... l'ennemico... eh... Ciro sei cambiato... rivolgiamo al Ciro che... odiava Fortnite... Fortnite è un gioco molto... un gioco molto... ma allora... lo uccido io... lo uccido... semplice... l'hai visto? è semplice... siete in 88.000... lì... grazie... no... vado da solo... mo... aspetta... di qua o di là? dove è per Oakvale? eh... allora bro... cerca di aumentare ancora il tuo... moltiplicatore combattimento... nel caso me ne vado di là... coteci rosa o... sapone anche che... pesco... allora... è F1... F5... eh... aspetta... sto avvolgendo... riavvolgi il mulinello... ma dai... si... si vede il mulinello... sopra... cioè in alto a destra... ahah... che ho trovato? ma che basta... ma dai... tutto questo casino per un pesce... incredibile... la venda... ah si... di qua... di qua... che rumorino... ma prendimi la arma... prendimi... eh... no 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 no... no no no... il tuo livello di sanitario... no no no... no 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 no... sono troppi... sono troppi per me... per la vita che ho... sono troppi... oh... che è... uuu... una vita. Il tuo livello di salute è basso. Hai delle pozioni o del cibo? Ho la mela. Mangia di la mela. Ok, ok. Poi ci prendiamo questa qui. Prendiamo la carne rosa, ma dai. Carne rossa. Questa caverna è degli hobb, ma non mi interessa. Devo andare per questo che dice? Devo vedere il tuo moltiplicatore combattimento andare su prima di aprirmi. Che deve vedere? Darkwood, sì, sì, di qua, di qua. Stiamo arrivando. Voi l'arrivo, eh. Arrivo. A Darkwood troverai la cappella di Scorn. Ok. Rispetta il volere degli dèi e loro ti ricompenseranno infondendo il male nella tua terra. No, no. Quanti ne stanno qua? Meno male che me ne vengono una a uno. Eh. Ah. La è liscia. Ci senti se ti dico? Accidilo. Accidilo. No. Non me l'ha ficcata. No. 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 Ma vedi, ne fai con un segno. No. 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 non mi hai preso, non mi aveva preso ma questi esplodono, aspetta che misere esplodono questi ah ok ma mi prendi? abbiamoci sta cassa la, la cassa eh sto fissando il mio soffitto, secondo me dovrebbe essere un pavimento ah qua ci siamo presi un'altra vita quindi a posterone il soffitto e il pavimento come qualcosa non qua quadra non cosa quadra il tuo livello di salute è basso hai delle pozioni o del cibo? si si ce l'ho un'altra? eh amico mio aspetta un attimo riesci a leggermi nella mente? nella mente aspetta aspetta inventario oggetti cibo ma vedi cibo cibo la carne rossa sulla sciupafemmine cibo allora questi qua non li tocco se non esplodono non me ne frega niente vado dritto vado qui eh sta è lunga non me ne frega niente vado ah non li schippo pure frega cazzi frega cazzi permesso permesso di qua di qua zzzau si mi viene capo si qua qua sta arrivando allora mo ah ok mi aspetta vediamo 70 volt uh eccolo qua il paulone un'altra vita please che c'ho eh ho sbagliato io ammettimi fammi indovinare stai cercando degli oggetti da combattimento ah si 3p gg ok guida ah no vabbè di tutto aspetta eh mi sembra che è di qua mi pare no un po' un po' del nemico è capp- non mi ri- cappella storm come cappella storm non mi ri- cappella storm non mi ri- cappella storm no non è di qua no 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 dall'altra parte si ricorda cappella storm l'antica porta non è che sto ritornando indietro ma basta mi chiamano da roma mi chiamano eh devo vedere i commenti mi chiamano da roma aspetta qua sto ritornato indietro giusto? si si no aspetta si sono ritornato indietro qua mi pare non mi ricordo no 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 giusto sto ritornando indietro non sto ritornando indietro si esce di tipo io eh ma niente cosa volevo fare la vita adesso aspetta la mela la mela la mela eh che ne so mi chiamano da roma mi chiamano aspetta eh armi, oggetti, cibo devo sempre mangiarmi la mela ragazzi la mela Ciro la mela Ciro la mela Ciro vai 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 tanto da solo questo vai hai visto perché devo sempre andarmi a piare mi sembri in forma eh si hai visto a me sarà meglio mostrarvi un po' di rispetto che mostravi di rispetto si trova un coi coi cosa ha detto? che ha detto? a piccoletto ma dai l'ho stato stuprato in tre mazzo che ha tirato una hit è stato un gioco da ragazzi e per forza mamma me gli ha fatto gli ha fatto gli avete fatto un danno un uomo un'altra fiale ammazza ma quante fiale vabbè ho 4 vite arrivano ehi ehi c'è un po' scrivalli quelle tante che cos'è il tuo livello di salute è basso un'altra fai sai come stanno inoltre la tua salute è critica critica uuuuh c'ho un hit perché la tua salute è critica ma dai mi tolgono la vita mi tolgono 10 abbiamo una hit stiamo arrivando aukvele stiamo arrivando queste me le liscio no sono difficili questo livello non riesco a battere avevo difficoltà quando ero maxato oh no il valverino questo qua ce lo facciamo invece oh no però mi attaccano pure quelle botte ball drappone il tuo livello di salute è basso andiamo 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 hai delle pozioni o del cibo eh vedi attaccano pure quella lì oh siamo arrivati quindi siamo bene arrivati no no aspetta un attimo aspetta un attimo di qua ok giro eccolo se prima siamo arrivati allora prima mi riposo lì nel letto abusivamente il tuo livello di salute è basso hai delle pozioni o del cibo ma come non puoi si sembra molto potente sono molto potente è notte quindi è notte ah c'è una carta missione importante da parte della gilda per te che palle il maestro che palla ok siamo arrivati eh scusa cosa ti interessa Oakvale siamo arrivati e mo parte la cazzin mi sembra che parteva la cazzin vai siamo arrivati Oakvale hai visto? dove passi proprio cazzin hai visto? ah questa qua è la signorina che salve mi ricordo di te credevamo fossi morto in quell'orribile assalto dei banditi dove sei stato tutto questo tempo? ti ricordi di me vero? stavo cercando la mia orsitta rosy prima della razzia da quel giorno i miei si sono trasferiti a Bowerstone quel posto non mi è mai piaciuto ehi tutto bene? per un attimo ho creduto di averti perso ad ogni modo ora devo andare è stato bello rivederti addio addio vai vai che bello prendiamoci le vite innanzitutto permesso ok vedi non ha l'aspetto di uno sciupa femmine ma me la dici in faccia penso che potremo proporti un'offerta speciale speciale oggetti erano pozioni eccole qua massimo prese? con volontà eh poco perché solo 8 come solo 8 eh mi sa che la serve di aiuto porca miseria come 8 me ne serve ancora una aspetta eh devo trovare un letto 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 ah aspetta si si può abusivamente perché intanto qua ipoteticamente non ci dicono eh ok andiamo su dicono niente qua no? vediamo sì ah ah a lei eh ma hanno sgamato aspetta 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 guardi ma hanno sgamato vai sì qui ma hanno sgamato non hanno 150 attenzione ah non va ma si è azzerato hai visto? no andiamo a domicare ma eh ma hanno sgamato lì hanno infrangere la regola allora sto facendo così tanto qua non mi sgamano no no qua ipoteticamente non hai visto? liscio come ha dormito tutta la notte e adesso ritorniamo a Oakville eh vi fate asfaltare no? come no si Oakville vai vai allora devo tenere i commenti però ma non ci credo non ma aspetta un attimo io dai vado tipo il tuo livello di salute è basso hai delle pozioni o del cibo alle diamoci la mela le finirò ste mele una volta no? e infatti le ho finite ci sono le torte di mele hanno dato due hit mamma me sto sto giocando ma come ancora 150 ma dai che che buttizzo che buttizzo dai ma si toglieva una volta hai visto? si è tolto meno male cioè si sono dimenticati così una volta conoscevo un sciupa femmine mi sembra non infrangere nessuna delle nostre leggi ehm aspetta ma si fammi comprare le pozze ah vedi ah no ho 8 vediamo se ce l'ha posso esserti d'aiuto penso che potremmo proporti un'offerta speciale vediamo se ce l'ha oggetti e no non ce l'ha più e no ma eeeh contadini sono stati derubati si trattava di vabbè inventario no non volevo andare in inventario scusa ma mi fai falla penso che potremmo proporti un'offerta speciale eh no non c'è cibo eh no non c'è cibo eh no non c'è cibo ehm piamo la carne rossa perché non l'ha finita posso pijarne? sono tre le mele ammazza 105 lingue oh eeeh contadini sono stati derubati si trattava di alcuni strani dispositivi spariti spariti eeeh ma come l'ho scritto scusami la cialotte vabbè una volta arrivati qua niente ritorno non volevo ma come l'ho chiamata siamo qui dobbiamo andare qua l'influzione l'influzione la salute aumenta la quantità di danni che sei in grado di assorbire e questo l'avevo capito però c'era bisogno di dirlo ombra, ombra maxata, ammazza ah no, ok, ok vediamo se riusciamo a potenziarci un po' lontano, sì uh, maxata no, ancora no tipo ne ha 5 o 6 ah, c'è una carta missione importante da parte della gilda per te sì, ma dimmelo con calma amico mio scorti mercanti no, fino laggiù mazza eh, sono orribili queste mission io salvo salviamo eh, torno alla partita no, devo salvare come si sa opzioni perché si salvano le opzioni eh, uno, uno conferma allora Fabio ci sei a lingotto dopo? ci, ci sei? salvo, sì adesso stacco Ciro ci sei a lingotto? tanto adesso esco signore, che bella sorpresa vederti se ci sei per le tre ci vediamo per le tre come no Ciro? ma ci facciamo le cose le giocate a calcetti a calcetto incredibili Ciro venghi, venghi eh, allora io però non vorrei salvare qua stiamo aspetta eh eh, cavolo ho fatto tutta la strada ah sì, perché non ho fatte poche vedi, non posso andare nel ma Ciro esca, esca venga a lingotto che stiamo ai calcetti Ciro che fino al 15 poi nisba eh fino al 15 poi i calcetti li tolgono eh i calcetti aspetta andiamo da quello lì sei pregato di osservare sì, l'abbiamo capito eh vediamo se eh, però non posso piarli qui non rimarrai vediamo se ce l'ha adesso è un altro giorno ce l'ha dai, me ne manca una di questa qua me ne manca una perché ne ho oddo eh, ne ho oddo ma come esci con altri tuoi amici Ciro va in centro eh, ma scusa ma state al lingotto stiamo ai calcetti allora no, non ce l'ha questo qua eh, siamo stati derubati no, qua non le vendono eh no salve a te ma questo è un cretino eh, scusa scusavi vabbè, io salvo qua eh salviamo qua opzioni carica salvaggio mondo sempre qua sovrascrivere ok hai visto? apposterone ok, usciamo dal game torno alla partita come si esce? esci hai visto? devi fare sempre opzioni è a posizione ah, ok aspetta un attimo cambio profilo ah, c'è Ciro e der 97 con la di vabbè eh usciamo, usciamo eh, sì yes yes, sir eh, Ciro stai in centro quindi oggi? stai nel centro? perché sono basso? sono un po' ah vabbè eh sono basso perché devo stare tipo eh così sto tipo così vai comunque mostro qua quando è ora tre ore di live eh non so dove andiamo eh ma ma digli ai tuoi amici se è stata l'ingotto così se ci facciamo la se siete in più eh stiamo ai calcetti eh tanto aprono alle 5 ipoteticamente alle 5 eh facciamo che eh arrivo a 3 ore così tonde tonde nelle 3 ore vediamo che cavolo allora eh quale cavolo era? aspetta Ciro che non trovo è questo qua? ah si eh modern combat modern combat se famo 5 minuti di modern combat ok 5 5 minutes diglielo 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 se è andata l'ingotto eh così se famo le partite a calcetti calcetti calcetto pari lo sento basso lo sento un po' ti kill eh ma non non lo dice cos'è ti killo perché c'è sempre il prodotto piazzamento ritira ma è solo uno scusami è tutti gli altri ma gioco perché ti sento basso scusami allora ecco eh lo sentivo basso lo sentivo questo è troppo alto troppo ok alta soluzione automatico aspetta ah no era ok cos'è anti no no sta cosa qua non so cos'è l'antico filtro antistropico cazzo è il filtro antistropico gpu metto la 1050 tia è a posto limite ps no a posto posterone ok non si salva a posto si si è salvato ma perché mi dice sempre ah 25 abita vai è andato ma è apparsa la signorina rinunge ma 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 volendo potrei aprire il gene pochetti gene vabbè se famo una dai se famo una battle royale easy cos'è sta cosa qua personalizzata ah la personalizzata one is this eh questi qua non li posso quindi li dico x perché guarda se li accetto vedi fai già parte vabbè ah io io faccio già parte di un un negozio royale ah ne ho aspetta un attimo solo ste cose queste cose eh le quelle non ce l'ho eh vedi ti fa solo comprare esaurito eh perché quello già ce l'ho eh vedi però ne ho 233 cioè poi scusa tu vai nello shop e puoi solo comprare queste tre cose bello eh eh alto se lo prendiamo ma si dai famo ce n'è una tanto per arrivare a tre ore tanto 5 minuti ho stacco eh devo tenere la chat perché si è scaricato di nuovo ok il cell ha già capito ok dei vantaggi speciali ce ne fanno una ce ne fanno ok ok dal vivo qui siamo qui siamo nelle lobby eh no ah si a posto a posto mi ha fatto devo sentire su qua qua eh però siamo vicini al limite del lirio limite del lirio limite del lirio oh con la F F si mazza però mi serve un'arma eh ok grazie oh il Bosch il Bosch il Bosch prendiamoci quelle monizie e me le metto subito modifica ok ok quindi abbiamo modificato il Bosch al limite del del collirio si esattamente siccome mi servono cure eh aspetta mi sembra che ho visto qualcuno eh infatti guarda che sta ruotando vediamoci la PA oh dove sta colchiti questo c'è il cecchino l'ho visto dai non è vero dai la testa eh si vede che ma poi con quell'arma là eh si vede che ma subito ho focussato la testa con 9 di vita l'ho lasciato 9 ma dai questo qua close e poi c'è morta 9 di vita per forza me l'ha slittata la kill eh niente no ce ne famo un'altra questa qua non voleva eh che pippa ma dai l'ho lasciato con 9 l'ho lasciato ma no ho fatto ma dai ho fatto rimuovi che vabbè che pippa eh è la prima di stronzi quindi rinuncia no no ce ne famo un'altra perché quella lì è stata proprio dai era partita bene era partita bene mamma me a me come battere io mi piace questo non quella cagata di eh lo so è fatto male però e me mi piace eh altro che footnight eh almeno qua non c'è gente brava riesce a fare un po' di kill no invece costruisci e costruisci sta cagà sta caos e fai e spar e yey cavolo se gli sparavo un altro colpo in più in testa era andato quello eh si vede che aveva lo scudo tre ma poi dai il bosh eh quello butto via c'è il tonno da caduta qua eh ma qua non siamo nella lobby eh che paura eh vabbè si muove da solo no andiamo sempre qua andiamo qua al massimo dieci persone calano infatti prima ce n'erano due eh allora qui in mezzo non ci vengono mai più come così no eh già visto eh però questo qua ha trovato l'arma eh porca eh vabbè eh pure io che sto fermo e che palle però che non trovo subito un'arma dai questa non vale vale ne faccio un'altra porca eh dai ma fammi fatemi trovare un'arma eh fai con con la pistoletta inutile che ci devo fare da fare che cazzo vabbè ehm arriviamo a tre ore eh meno cinque eh un'altra ma porca eh Ciro fammi trovare un'arma neanche c'è ho fai tato con la pistoletta Ciro c'è con la ti rendi conto con la pistoletta eh la pistoletta come come fai a giocare con la pistoletta eh quella che ti dà il gioco eh pur ora mi sa che aveva trovato un mitrone eh ecco il mitrone poi sono stato fermo qui ok ci sono tredici vivo spettatore speriamo che sia l'ultimo eh se magari mi fanno trovare un'arma riesco a giocare che poi sono c'è subito sono entrato a lutare già quello lì stava ha già luttato tutto quando come faceva correre tab ah no è shift ah ma dillo che era shift e chi l'aveva capito non lo di ma chi sai no sto posto qua non lo conosco se siamo in lobby facciamo la lobby si 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 stancato ciro ok 3 2 1 vai scendiamo sempre qua al tempio vai qui ui 5 persone 6 mazza eh se non trovo subito un'arma qua mi sa che ne la fanno no perché sotto qua non mi piace l'aeroporto all'aeroporto l'auto 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 ok ho preso medikit corro con shift prendi medikit li hai presi ok dai dammi un'arma è pure schifo eh vabbè ho trovato un pombo ho trovato il pompa non mi piace il poco quest'arma qua ecco mi sa che l'hanno già luogato infatti il ferro si almeno un'arma ok adesso ok e che palla non ho trovato neanche però questo qua c'è il cecchino no c'è al mirino stanno siccome stanno fightando lì sono già entrato qua dai devo trovare almeno l'arma di prima ah ok qua non sono passato c'è almeno ok uh tre mazzate è però il mix in tre livello uno ok pall uh poi c'è morto qualcuno invece oh il boss si 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 va via vai vai e tengo il pompa si quindi il boss lo modifico ma come eh dio mio ripia ripia lo stanno fightando di qua quindi se io ipoteticamente corri corri io ci vado uh eccolo lì e l'abbiamo ucciso hai visto ok la stanno fightando altri due oh quale è piena sto giro eh dove da dietro mi sto arrivando da dietro mi sto arrivando ok non c'aveva nulla capisco dove mi sta mazza però la safe mazza oh il cecchino lo via però il cecchino mi toglie il ferro cioè il bosch mi toglie e vabbè andiamo però volevo il bosch non l'altra arma sai cosa ti dico noi ci curiamo e mi vado ad appiare il bosch mi sembra dove è il bosch dai ma il il bosch eccolo qua vai vai corri 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 mo devo correre peggio di una corri corri che siamo nella parte non sicura vabbè che la prima non fa tanto danno però meno male che c'ho le cure vai corri corri ehi ehi si fa pure male sto pretino vediamoci che miseria c'ho lo scuso livello 1 scendo a prendere la spesa ma quindi Ciro ci vediamo a lingotto dopo non ho capito se i tuoi amici ci sono o non ci sono se ci sei ai calcetti ci siamo qualche partita quindi entriamo qua ho fatto già due uccisioni visto siamo in dieci perché come allora eh però ok andiamo a lottare questa casa qua velocemente non ti fare male che qua mi danno la codota mi sa che c'è ok qua non si può entrare si può? no e come come entro dove è l'entrata principale principale guarda qua col cecchino questo cec pavone cavolo orca l'ho lasciata oh c tua quanti colpi mi fate lutare questa casa per di ammazza io ho tirato una piotta facci c tua c tua siamo rimasti in cinque siamo rimasti in tre allora lutiamoci eh ma io non ho capito dove si ah di qua di qua ok non ci vuole eh mi sa che è già stata lutata qua eh si eh vabbè l'avevo visto tifo era tifo sotto qua sta ok ne è morto un altro attenzione siamo in podio eh siamo nel podio eh ma io vado in safe ma aspetta qua ci ah no non ho la granata che si posiziona che pallet però l'avevo visto che stava qua quindi ma vai liscio ecchècca ci su colpo la testa amici no 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 è da dietro mi ha preso mi ha preso da dietro chi aveva i secondi riesco a vincere questa è comunque stacco eh amici staccano nessuno mi ha chiesto che succede le cose per il collegio foro nessuno me l'ha chiesto ma eh vabbè secondi 5 quando è che l'ho fatto 6 kill mi ricordo eh almeno qua si fanno le kill eh mio cioè almeno non devi costruire rinuncia sì quindi andiamoci a prendere la ricompensa la ricompensa ah 7 vabbè chissene su 10 amici concludo la live adesso usciamo dal game yes sir tanto siamo tre spettatori che non si identificano vedi fangotubo vabbè concludo la live qua spengo il telefono cioè tolgo la cosa beh siamo a 3 ore 6 e quindi se vedemo domani e domani no aspetta domani non lo so vabbè perché domani è domenica eh vabbè bella amici però però i tre in live non si identificano se vi identificate vi saluto mamma ma sono le due un quarto sta laggando ah no non sta laggando c'era un callo di frame frame rate meh e niente amici scendo a prendere la space vabbè vedi i partecipanti e dice terra ma vedi non me l'ha contato e comunque è concludo la live aspetta arriviamo a 3 a 3 ore 10 così per fare tondo per fare tondo si vedono gli 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 avenger eh non non si vedono guarda guarda sta cuffia che mi fa i capelli strizzati oh allora devo mettere facciamo che lascio la musica e poi stacca amici la intro vabbè one no va a Grazie a tutti 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 Grazie a tutti